Buongiorno a tutti, presenti e assenti e anche a coloro che ci seguono da lontano. Questo è un argomento un po' particolare, mi hanno criticato, però è un argomento che tocca a tutti noi. Tocca a tutti noi perché questo stato di sonnambulismo, così lo chiamano i giornalisti, e questo eccesso di violenza che si trova sia tra i giovani che essendo piuttosto vigliaccotti e viziati, per commettere reati e anche ferati, si uniscono in gruppo. Questo naturalmente coinvolge sia le famiglie, la scuola, il mondo del lavoro e naturalmente anche il mondo giudiziario. Perché? Perché sia in famiglia che fuori succedono cose che fino ad oggi non si erano mai viste o quantomeno si erano viste in molto poco. Ogni giorno si ammazza qualcuno, o la moglie, o il marito, o l'amante, o che cosa, e ancora più grave si ammazzano i figli, perché giustamente danno fastidio, perché sono una responsabilità. La gente non vuole più assumersi alcuna responsabilità. E questo è gravissimo, perché andiamo incontro alla devastazione della società. La società si sta decomponendo, si sta putrefacendo. Quindi cerchiamo di fare nel nostro piccolo qualche cosa. Naturalmente ringraziamo il Consiglio dell'Ordine che ci ha ospitato, come al solito, in questa prestigiosissima sala. Ringraziamo i relatori che ci hanno onorato della loro presenza e speriamo di andare avanti sempre con un po' di forza, che diminuisce sempre più naturalmente. E purtroppo ci sono delle defezioni. Comi, che è uno del Consiglio dell'Ordine, ma soprattutto è un bravo avvocato penalista, è impegnato in Calabria. Un processo che non poteva mancare, proprio stamattina. E Comi ci avrebbe potuto parlare di quanti processi hanno invaso il Tribunale di Roma, proprio a causa di queste violenze assurde e terrificanti che ci sono nelle famiglie. Manca l'amatone, che sì, è vero che è politica, ma fino a ieri era procuratore generale del Corte d'Appello dei minori. Quindi la problematica minorile la conosce molto bene. Purtroppo, per motivi istituzionali, non è potuta venire. E anche nel mondo minorile i ragazzi non sono più quelli di una volta. Crescono molto in fretta. Per cui, perché l'imputabilità deve essere così avanti negli anni? Come questi ragazzi diventano sempre più autonomi e grandi e così dovrebbero essere responsabilizzati anche nelle loro malefatte. Manca la Mingardi che invece sta male, poverina, e quindi la scusiamo naturalmente. Parlando con la Mingardi mi diceva tempo fa che ci sono grossissimi problemi, in materia soprattutto dei giovani, perché vengono devastati, vengono prevaricati da malfattori che se ne approfittano quando non stanno bene e quindi ci sono amministratori di sostegno, parenti, che li derubano di tutto quello che possono prendere. E quindi i genitori vanno a consigliarsi da lei a trovare soluzioni migliori per difendere questi ragazzi. Quindi sono tre assi importanti che veramente ci mancheranno. Comunque ringrazio coloro che sono invece presenti. Diamo la parola adesso a chi? Chi? Parla? Puoi cominciare tu? Io? Io? Voi dovevate andare via prima? Ma io parlerò poco. Sì. Grazie, grazie Presidente. Grazie per questa iniziativa che mi ricorda quella di qualche anno fa, nella quale stavamo in questa stessa aula. Io ci avrei un emendamento. Invece di dire sonnambuli o violenti, io direi fatti. Non mi avete visto che ho fatto. Ci siamo vicini? Sì. Sai? I sonnambuli veri sono pochi. I fatti sono la maggioranza. A Roma soprattutto? Dappertutto. Non soltanto a Roma. Dappertutto. Sto fenomeno del consumo di sostanze è stato sempre sottovalutato, è stato rimosso, come se fosse una cosa poco seria, poco importante, in tutto il mondo. Adesso gli Stati Uniti si stanno risvegliando da questo torpore istituzionale perché hanno pagato un pedaggio fortissimo all'aver sottovalutato il fenomeno. Abbiamo assistito a First Lady che definivano il fenomeno e pensavano che un rimedio fosse Just Say No. Just Say No. E' una visione molto riduttiva del fenomeno. Adesso si trovano centomila morti l'anno. Tossicomane non è colui che si droga, non basta drogarsi per essere tossicomane, ma è colui che è incapace di sopravvivere senza droga in una data fase della sua esistenza. Quindi è un concetto diverso. Noi dobbiamo distinguere questo mare magno di droga e che giustifica tranquillamente tutto quello che ha detto la Presidente. Gente che si ammazza, che fa reati, che si comporta in maniera assurda, che non dorme la notte. Anche i normali non dormono la notte. Non è che alla nazione, come dice il Presidente del Consiglio, gli fa bene avere la gente che non dorme la notte e vive la notte. Perché per stare bene bisogna dormire la notte. La notte è fatta per dormire, non per andare in giro a appazziare. E per sopportare lo stress bisogna farsi. Bisogna farsi. E i ragazzetti di 15, 16, si fanno in una maniera che i normali neanche se li immaginano. Quindi il problema è prendere atto che esiste questa mutazione, che esistono questi soggetti, che diventano poi anche violenti, come attributo del loro essere fatti, e che vanno curati, presi in carico. Lo Stato deve prendersi cura, take care di questi ragazzi. Cosa che non è, cosa che non è, non avviene. Perché noi rispondiamo con i rituali della burocrazia, il territorio, territorio, è un concetto meschino, proprio burocratico. Ma come io sto male, sto male, perché questi stanno male. Chiedo disperatamente aiuto e questi mi chiedono, ma tu dove abiti? Ah no, tu sei di un'altra circoscrizione, mi dispiace, vai dall'altra parte di Roma. Questo è masochistico da parte dello Stato. Lo Stato ha tutto l'interesse a incontrare, conoscere, curare queste persone. Cosa che non avviene. E quindi c'è un concorso di colpa da parte delle istituzioni. Non c'è rimedio. Io non ho i rimedi pronti. Però abbandonare questi ragazzi a se stessi. Oppure vederli una volta e poi gli danno l'appuntamento dopo un mese. Ma in un mese un tossico nasce, risorze, giacque, ricomincia da capo, muore, resuscita. Questi sono i tempi. E noi siamo in tempi completamente sfalzati rispetto a quelli della realtà. Quindi c'è una sottostima e una sottoperatività dei servizi pubblici nei confronti di questo fenomeno. Perché un tossico, intendendo per tossico, colui che è incapace di sopravvivere senza droga, è sempre una persona pericolosa per sé e per gli altri. Perché non è self-sufficient. Ma un tossico sconosciuto è due volte pericoloso per sé e per gli altri. E quindi ripeto che l'interesse è incontrarli. Meet, test, treat. E un altro slogan che io uso a livello internazionale. Access to treatment. Access to treatment. Questo non è un concetto universalmente accettato. Access to treatment. Continuum of care. Perché la terapia non è cash and carry. Io ti vedo un giorno e te saluto. Perché la terapia deve durare almeno 12 anni. Con alti, bassi. In cui la persona è sola. Disperatamente sola. Che nessuno se lo fila. E quindi diventa ancora più pericoloso per sé e per gli altri. Sia quando è lucido, perché cerca disperatamente una nuova dimensione fatta, sia ancora di più quando è fatto. Perché per definizione uno fatto non è lucido e non è responsabile delle sue azioni. E quindi è ancora più pericoloso. La risposta oscilla tra, così, questa bontalloro, i centri antidroga, con tutti i limiti, i ritardi, i deficit di personale, l'ignoranza anche del personale. Perché avere a che fare con il tossico non è, non si compra al mercato. Non bastano le lauree per avere la sensibilità. Perché il tossico non gli faccia schifo. Che è la reazione che ha la maggioranza dell'opinione pubblica rispetto a un tossico. Ci vuole compassion. Compassion. Se non c'è compassion, che lo dico in inglese non per fare ciccio, ma perché compassion è diverso da compassione. Vuol dire farsi carico, farsi prendere su di sé, capire la disperazione, che è grande. La disperazione è grande. E quindi compassion è continuum of care. Oggi mi serve una cosa, domani me ne servirà un'altra. Ci vuole chi mi indirizzi, qualcuno del quale io abbia confidenza, fiducia, al quale mi posso rivolgere, come se fosse mio padre o mia madre, posto che certe volte mio padre e mia madre hanno i problemi loro o hanno diritto anche alla loro patologia. Perché qui parliamo della patologia del figlio, ma non parliamo della patologia della famiglia. E quindi questi poveretti sono, c'era un film, cani perduti senza collare, sono veramente poveretti, sono sofferenti, sono fatti, e quindi il limite della responsabilità va definito di volta in volta. Però se noi li mandiamo in galera, la galera non è mai stata un posto di terapia. Anche perché nella galera non è lo Stato che regge e governa, sono i più delinquenti. E quindi c'è il rischio che il ragazzetto poveretto, che non è particolarmente offensivo o particolarmente eterolesivo, entra perché è malato e dentro impara a diventare delinquente. Di qui quello che stanno tentando in America con i concetti di diversion e deflection. Cioè cercare anche di mettere in mezzo, a scopo terapeutico, le forze dell'ordine. Chi è l'interfacies tra il mondo di coloro che ritengono di essere normali e il mondo di quelli che sono patologici? L'interfacies. È una delle interfacies delle forze dell'ordine. Le quali sono frustrate perché vedono che non giocano un ruolo positivo. Li mettono in galera, poi il giorno dopo esce fuori, la sindrome delle porte d'hotel, che entri e con la stessa velocità esci e poi ritorni. E questo lascia l'amaro in bocca. Allora se dico, se tutte le forze che sono interfacies tra il mondo cosiddetto normale e il mondo patologico potessero giocare un ruolo sinergico. Per esempio creare delle strutture intermedie che siano più terapeutiche che custodialistiche. Ci hanno provato, ma insomma non funziona. Non funziona. La galera è patologica e patogena. La galera crea patologia. E chi si fa? Si fa perché soffre. E che si fa perché ti vuole godere. Si fa perché sta male. Dicono i francesi «Etre mal dans sapeau». Stare male nella propria pelle. Che non è né un male fisico né psichico. È il male di vita, di vivere. Il male di vivere. Perché vivere è un esercizio difficile. È complicato. E c'è gente che non gliela fa a vivere. E quindi c'ha bisogno di un supportino. C'ha bisogno di qualcosa che l'aiuti ad andare avanti nelle difficoltà quotidiane. Nei quartieri le forze dell'ordine lo sanno. Lo dico perché a Villa Mareini noi abbiamo un comandante dei Carabinieri che è un uomo di buonsenso. È un uomo di buonsenso e sa tanti cavoli, tante cose. Ci aiutiamo. Ci aiutiamo. Non so se voi sapete che a Roma, senza che ci sia un atto formale, ogni volta, da vent'anni, e questo la dice lunga, ogni volta che i Carabinieri della poesia arrestano un tossicomane, chiamano Villa Mareini. E noi abbiamo portato la pace nelle caserme, dove c'era conflittualità, con una politica umanitaria, con l'uso anche dei farmaci, primo fra tutti il metadone, che è un farmaco importantissimo. È ritornata la pace. È ritornata la pace. C'è la pace. Allora, se noi formalizzassimo un po' di più, che è il Carabiniere di quartiere, quando vede qualcuno che se la passa male, prima che compia un reato, lo possa avviare ad un centro che si faccia cura di lui, Noi preverremmo molti, molti reati e molto malessere. Però per fare questo ci vuole open mind, ci vuole fantasia. E quelli che fanno le delibere, visto, 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 atteso, nelle more. Recentemente ho letto una delibera da Regione Lazio, c'erano 97, visto, prevesso, 97, 97. Due righe di perverso. Sì. Parliamo lingue diverse. Quindi ci vuole fantasia. Perché per fare terapia e per evitare i sonnamboli, e per evitare anche i violenti, ci vuole terapia. E la terapia non è solamente lo studio o la laurea. Ci vuole anche fantasia e commitment. Ecco, io questo sottolineo e questo cerchiamo di portare in giro per il mondo, dove stanno tutti più o meno nelle nostre condizioni, oppure peggio, favorendo che le forze dell'ordine diventino protagoniste di un rapporto con i patologici che assumono sostanze, che si avvicini più alla terapia piuttosto che alla repressione. Poi, qui siamo così, possiamo discutere, possiamo così, friendly. Grazie Massimo per la requisitoria alla società che ci vuole. Perché veramente, come detto, questi ragazzi sono abbandonati. E come diceva Mario Picchi, la droga è un problema in più. Cioè, uno si droga perché ha dei problemi. E io che ho fatto l'avvocato del CES per 30 anni, fino a che Mario non è morto, ed ero in contrasto con Massimo perché lui sosteneva il metadone, io invece ero contro il metadone. Però questi ragazzi avevano bisogno di sentirsi accompagnati, sentirsi aiutati. Mi ricordo che quando andai al CES rimasi per mezza mattinata in una stanzetta piccola a Piazza Gheroli con dei ragazzi, i quali cominciarono a raccontarmi la loro vita. Quando poi andai finalmente da Mario, capì che quello era stato il mio ingresso, ero diventato l'avvocato del CES. Mario aveva cercato, voleva sapere se io ero adatta a stare insieme a questi ragazzi. E mi ricordo pure che ebbi il primo provvedimento per gli arresti domiciliari in comunità. C'erano gli avvocati di tutta Italia che mi telefonavano, come è fatto, come è fatto. Ho spiegato qual era il motivo per cui chiedevo questo provvedimento. Comunque, tempi passati, ma che sicuramente non sono migliorati. E quanto all'America, sicuramente stanno molto peggio di noi, perché ancora noi non vediamo i ragazzi in strada che muoiono come passerotti colpiti. Ancora non ci siamo arrivati e speriamo di evitarlo. Diamo adesso la parola al dottor Fisullo. Grazie. Buongiorno a tutti. Va bene così, vero? Confermo? Allora, io sono neurologo, innanzitutto non neurochirurgo, lavoro al Policlinico Gemelli. Il neurologo, tra le varie criticità e tra i vari problemi, diciamo, che affronta di natura più o meno organica, affronta anche i problemi del sonno. E effettivamente il sonno e la violenza si sono incrociati diverse volte nel corso della storia, e anche infatti recenti, quindi di fatto è una condizione che spesso nasce da una non perfetta conoscenza di ciò che è il sonno. Voglio partire da un concetto di base, perché noi percepiamo spesso il sonno come l'assenza di veglia. Cioè, uno dorme perché non è sveglio, ma non è così. Cioè, il sonno è un processo attivo, cioè il nostro cervello lavora per raggiungere il sonno, così come lavora per raggiungere lo stato di veglia. Cioè, l'attività intellettiva che noi abbiamo quotidianamente, svolgiamo le nostre attività quotidiane, chi l'avvocato, chi il medico, chi il giudice, tutto il resto, necessita ovviamente di un'attività neuronale. Ebbene, anche il sonno necessita di un'attività, per cui il sonno è altrettanto importante quanto la veglia. Questo è un concetto che è difficile da percepire, perché noi pensiamo che durante il sonno il nostro organismo si riposa. Non è così. Il nostro organismo svolge delle funzioni di reset, di elimina dei metaboliti attivi, agisce riformulando un po' le sinapsi. Ci sono dei nuclei specifici, che sono il limbico, la amigdala, la corteccia frontale, tutte aree che sono appienamente attive anche durante il sonno, e devono esserle attive, perché altrimenti il sonno e la veglia rischiano di confondersi, rischiano di, si dice, una sovrapposizione degli stati, cioè dello stato di sonno e dello stato di veglia. Ed è da qui che nasce la patologia, tipo il sonnambulismo. Quando questi stati, quando le aree cerebrali che sono deposte per la veglia e quelle deposte per il sonno, si sovrappongono. Quindi, di fatto, il sonno è un elemento importante, tanto quanto la veglia. E il nostro organismo lavora per raggiungere il sonno. Quindi questo è un punto principale dal quale intendo partire. Non entro troppo in dettaglio, non voglio essere troppo tecnico, però diciamo, il sonno si distingue in due grosse fasi, che vedete qui rappresentate. La fase di sonno profondo. Ed è la prima fase del nostro sonno. Guardate, vi faccio vedere qui. Cioè, mettiamo che, diciamo, andiamo a letto verso le ore 23. Ho fatto qui un esempio. La prima mezz'ora, sto parlando di un soggetto non patologico, quindi un soggetto sano, quindi nella prima mezz'ora avviene la fase di addormentamento. La fase dove, pian piano, si riduce l'attività cerebrale. C'è una prevalenza, noi diciamo, di onde teta e poi delta. Cioè, nel senso, la frequenza del nostro cervello rallenta a livello della corteccia. In questa fase, nella fase dell'addormentamento, credo che sia capitato a chiunque, abbiamo la sensazione qualche volta di caduta. Come di cadere nel vuoto. Questa è una parasonnia, non è una patologia. Nella fase dello stadio 1 del sonno non REM, quindi del sonno profondo, nella fase di addormentamento, questo episodio, la sensazione di caduta, può essere presente. Il tono muscolare si mantiene ancora, in questa fase, abbastanza presente. Non c'è un'ipotonia. C'è un discreto tono muscolare, soprattutto della mandibola, insomma, comunque il tono dei muscoli volontari si mantiene ancora elevato. La fase dello stadio 1 dura circa 10 minuti. Dopodiché si passa, se non ci sono ovviamente degli elementi che inducono al risveglio del soggetto, si passa alla fase 2. La fase 2, il sonno diventa più profondo. Da un punto di vista nostro, dal punto di vista elettrofisiologico, cioè pazienti che vengono sottoposti a polisonografia, quindi si registra l'attività elettrica cerebrale, compaiono alcuni elementi che ci fanno capire che il sonno si sta approfondendo, che sono questi che qui vedete in eretto, segnati complessi K e fusi del sonno, gli spindles. Il sonno sta procedendo verso le fasi più profonde. Si approfondisce un'altra mezz'ora, iniziamo finalmente in quello che viene detto in inglese, the slow way sleep, cioè il sonno a non delente. Ed è il vero sonno, la fase 3 e la fase 4, che in alcune classificazioni vengono incorporate. Nella fase 3 e nella fase 4, questa è la fase profonda del sonno. È veramente il sonno riposante. Cioè la percentuale di fase 3 e fase 4, di stadio 3 e stadio 4, del sonno rispetto al sonno totale, è tanto maggiore quanto più riposante il sonno. Quindi effettivamente noi possiamo dire di riposarci quando abbiamo la sensazione di essere riposati, quando la stadio 3 e lo stato 4 del sonno è abbondante nel nostro sonno quotidiano. E quindi si passa alla fase 4. Nella fase 4 è qui che avviene la riduzione del consumo di glucosio, la riduzione della temperatura, la riduzione della frequenza cardiaca. e questa rappresenta la fase più profonda del sonno, come dicevo prima. Cioè la fase del sonno che effettivamente è il ristoratore. Se non che dopo questi primi 40, 60, 80 minuti, dipende molto ovviamente dalla... In genere queste prime fasi sono più lunghe all'inizio del sonno, si passa al sonno REM. Il sonno REM è un sonno che... è un'attività cerebrale che è molto più vicino alla veglia che al sonno vero e proprio. È più vicino allo stadio 1, quindi alla fase dell'addormentamento. Il cervello riprende una propria attività. Una propria attività che è dettata da alcuni centri che vi ho detto prima, l'amigdala, l'ippocampo, la parte temporomesiale, alcuni lobby specifici, alcune aree specifiche cerebrali. Ed è caratterizzato, come dice lo stesso REM, cioè dall'attività dei movimenti oculari. Cioè gli occhi in questa fase iniziano a muoversi in maniera divergente e da qui prende il nome di REM. È in realtà una fase in cui ci sono... anche il sistema autonomico viene un po' riattivato. La frequenza risale, ci sono tutte le funzioni vegetative, sbalzi pressori, frequenza cardiaca, ci possono essere delle extrasistole. Avviene in questa fase, per esempio, la fase dei sogni. Cioè i sogni avvengono durante la fase REM. Questo non è un sonno ristoratore. Tant'è vero che nei pazienti che hanno alcuni tipi di insonnia c'è una prevalenza di sonno REM. E non è un sonno che permette, come avete potuto capire anche da questa piccola descrizione, non permette all'individuo di riposare. È una fase vivida in cui ci sono tanti sogni, possono esserci degli incubi in questa fase, e il cervello è pienamente attivo. Ora, tutta questa fase di alternanza di sonno profondo e sonno REM si verifica più volte nell'arco della notte. Si verifica, qui viene riportato, per esempio, in questo ipnogramma circa 7-8 volte, ma può essere estremamente variabile. Sta di fatto che nella fase iniziale del sonno c'è più sonno profondo, perché c'è un sorta di meccanismo di difesa, nel senso dell'organismo, che tenta innanzitutto di riposare di più. Quindi la fase di sonno profondo è soprattutto all'inizio, nelle prime ore. Dopodiché, nelle prime ore del mattino, in realtà, poi dipende ovviamente da quando uno va a letto, però nelle prime ore del mattino compare una maggiore percentuale del sonno REM. Tanto è vero che noi spesso abbiamo la percezione dei sogni soprattutto all'alba, soprattutto nelle prime ore, nelle ultime ore delle notte, nelle prime ore del mattino, perché effettivamente si sogna di più durante questa fase. Quindi, partendo da questa descrizione sommaria, visto che l'argomento era i sonnambuli e la violenza, le maggiori correlazioni tra atti violenti e disturbi del sonno sono state fatte con le parasonnie. Cosa sono le parasonnie? Allora, il termine parasonnie è una descrizione che viene dall'inizio del Novecento, ma il termine parasonnie sta già a indicare attorno al sonno, quindi nella fase in realtà di addormentamento e questa, diciamo, l'indicazione iniziale che venne data. Cioè, nella fase di transizione tra sonno e veglia, ma in realtà rappresenta un mix tra il sonno e la veglia. come vi dicevo prima, cioè una sovrapposizione degli stati del sonno e della veglia. Grossolanamente si distinguono due tipi di parasonnie. Parasonnie del sonno REM e parasonnie del sonno non REM. Cioè, disturbi del sonno che si verificano in quella prima fase che vi ho fatto vedere, cioè in cui il sonno è profondo, quindi il sonno non REM, e disturbi invece del sonno che si verificano nella fase REM. Senza entrare troppo nello specifico, diciamo che le parasonnie non REM, cioè della fase iniziale del sonno, sono il sonnambulismo, il sonniloquo, il pavor notturno e gli svegli confusionali. Ora, questi sono solo alcuni, ma sono quelli che sono stati correlati ad atti violenti compiuti durante il sonno o comunque, diciamo, durante le ore notturne. e il più studiato anche perché è il più interessante anche da un punto di vista fenomenologico è il sonnambulismo. Sicuramente il sonniloquio è qualcosa che abbiamo riscontrato frequentemente, soprattutto nei bambini. Infatti, tutti questi disturbi sono più frequenti, tutti i disturbi del sonno e le parasonnie sono più frequenti in età pediatrica. Il sonniloquio credo che ci è capitato spesso, o comunque talvolta, di vedere qualcuno che parla durante il sonno. Ok? E questo è una parasonnia, è una condizione fisiologica, purché non disturbi il partner di letto, è una condizione fisiologica che caratterizza i soggetti nella fase iniziale del sonno. Non è un disturbo del sonnoremm, non fa parte, perché qualche volta noi siamo portati a pensare che il paziente, il soggetto, non sono pazienti, non sono malati, che il soggetto parla nel momento in cui sta sognando, ma non è così. Il sonniloquio è nella fase non REM, quindi nella fase in cui il soggetto non sta sognando. Generalmente si può associare a un aumento della frequenza cardiaca, un po' della sudorazione e così via, ma ripeto, è una condizione benigna, non è una patologia. Il pavor notturno lo rispondiamo spesso nei bambini, i bambini che si risvegliano durante la notte, agitati, con un urlo durante la notte. Deve essere distinto dall'incubo, perché anche in questo caso il soggetto non sta sognando, la distinzione avviene attraverso in realtà la registrazione dell'elettroencefalogramma, nel senso che ovviamente i bambini piccoli non hanno la percezione del sogno, quindi di fatto nei bambini piccoli viene fatta una distinzione puramente con la polisonnografia. Ma veniamo, il risveglio confusionale, al sonnambulismo. Ora, il sonnambulismo è stato interessato in diversi, è stato considerato in diversi reati avvenuti durante il sonno. anche O.J. Simpson per esempio è il caso ma tanti altri casi che poi brevemente vi farò vedere. In realtà è uno degli eventi del sonno tra l'altro più inquietanti perché si tratta di soggetti che possono essere come sempre accade più frequentemente pediatrici ma anche adulti effettuano un comportamento apparentemente di veglia durante però in realtà il sonno. Possono essere delle situazioni più o meno semplici quindi semplicemente una gesticolare o mettersi seduti oppure più complesse come per esempio deambulare o addirittura utilizzare degli strumenti per esempio la macchina e avvenire questi fenomeni durante anche il sonno. Generalmente sono dei movimenti complessi ma automatici e generalmente sono abbastanza goffi non sono perfettamente lineari però il soggetto dorme cioè dal punto di vista elettroencefalografico è nella fase di sonno profondo quindi in quella prima fase 3-4 che abbiamo visto all'inizio quindi il soggetto non ha una consapevolezza di quello che sta compiendo nella maggior parte dei casi non c'è un contenuto allora il soggetto che viene svegliato durante un atto di sonnambulismo si dice non svegliare il sonnambulo in realtà l'unico motivo è semplicemente perché svegliandolo acutamente un soggetto che si trova in certe situazioni ovviamente può trovarsi in una situazione di agitazione psicomotoria perché ovviamente è confuso disorientato eccetera quindi può essere in quella fase si viene risvegliato aggressivo ma sol perché è una reazione di difesa da una condizione in cui lui si trova improvvisamente risvegliato insomma dal sonno qui la prevalenza nell'adulto in realtà è anche sotto il 4% ma anche perché ci sono dei movimenti degli atti di sonnambulismo che ripeto sono minori quindi magari ripeto il soggetto si mette seduto e poi ritorna a dormire anche queste sono comunque delle condizioni di sonnambulismo perché teoricamente la fase motoria non dovrebbe esserci così organizzata durante il sonno ora mi collego un po' a quanto aveva detto anche il collega è chiaro che queste parasonnie possono essere spontanee cioè possono essere delle condizioni idiopatiche correlate al soggetto stesso ma qualche volta possono essere licitate stimolate triggerate da alcune condizioni che possono essere anche delle altre condizioni patologiche per esempio chi soffre di apneostruttive durante il sonno le osas chi soffre di apneostruttive durante il sonno tende ad avere più frequentemente questi disturbi queste parasonnie oppure le gambe senza riposo un'altra sindrome oppure chi assume farmaci ci sono alcuni farmaci per esempio molti antidepressivi o alcuni antipsicotici o alcuni betabloccanti che sono associati a un maggior rischio di avere questi tipi di atti questi tipi di sonnambulismo il sonnambulismo sembra triggerare il sonnambulismo nonché le condizioni di astinenza più che di abuso quindi diciamo l'astinenza da alcolici l'astinenza da farmaci da droghe anche questa condizione stimola il sonnambulismo se cercate di capire il sonnambulismo può essere ovviamente una condizione assolutamente benigna nel senso che non crea nessun rischio né per il paziente né per chi per il per chi vive con il paziente in alcuni casi invece è più è un sonnambulismo più aggressivo generalmente un sonnambulismo di fuga cioè il soggetto cerca di scappare quindi però in questa fuga può ovviamente coinvolgere anche chi gli è vicino chiaramente si è visto che per esempio sono più aggressivi i sonnambuli che hanno un'associazione con il con quel pavor notturno cioè quell'urlo iniziale che può essere la fase iniziale del sonnambulismo oppure qui vi ho segnato alcuni di quelli che sono i maggiori correlati ad episodi violenti che sono il genere maschile una famiglia disfunzionale nella sua storia degli abusi sessuali la depressione o come dicevamo la storia di abuso di sostanze ci sono poi degli episodi precipitanti che sono appunto l'assunzione di alcol l'ansia lo stress cioè tutte queste condizioni con le quali ormai ci confrontiamo quotidianamente qui ci sono alcuni vabbè al di là del fatto che il sonnambulismo è stato riportato nel Macbeth già da Shakespeare però diciamo ci sono alcuni casi di cronaca che sono stati giudicati non io non voglio fare dei studiatori visto che sono circondato da vocali quindi non imputabili corretto? ok in quanto commessi durante un disturbo del sonno quindi alcuni casi ma lo stesso caso di Cogne era stato inizialmente indirizzato verso questa questa situazione poi vabbè c'erano alcune condizioni che non l'hanno reso possibile qualche volta può essere la scusa però capire quando è la scusa e quando in realtà il paziente non è così semplice esatto ci vuoi la perizia e non sempre la perizia è così semplice poi non sempre i perizi sono la tessera e no ma perché non è sempre semplice nel senso che ci sono delle condizioni poi nella parte finale vi farò vedere dal punto di vista della diagnosi differenziale però non sempre è possibile tra l'altro il sonnambulismo è molto più complicato un'altra condizione che spesso si associa a reati gravi è quello che viene detto REM behavior disorder cioè i disturbi comportamentali durante il sonno REM quindi passando dalla fase non REM alla fase REM la fase REM ovviamente si caratterizza dagli incubi notturni questa è una condizione che può capitare a tutti le paralisi ipnagogiche anche questo forse è capitato a qualcuno di svegliarsi di sentirsi avere la sensazione di essere sveglio ma in realtà di essere nel sonno REM e di sentirsi paralizzato anche questo totalmente bloccato nel letto anche queste paralisi isolate durante il sonno sono delle parasonnie REM cioè che avvengono durante la fase REM ma quella di fatto che è più correlata a una condizione di possibile violenza soprattutto di colui che è accanto nel letto è proprio il REM behavior disorder il REM sleep behavior disorder cioè il disturbo comportamentale nel sonno REM questo è caratterizzato da episodi che avvengono ripeto durante la fase REM di grida di grida verbalizzazione aggressive degli scatti motori il soggetto tira calci pugni in maniera specifica in maniera molto violenta e questo rappresenta proprio il classico esempio in cui c'è una sovrapposizione degli stati cioè il soggetto sta dormendo però vive il sogno da un punto di vista motorio allora noi normalmente durante la fase REM siamo una caratteristica della fase REM è l'atonia cioè la totale assenza di tono muscolare in questi soggetti invece manca questa questa condizione e quindi il tono muscolare ce l'hanno e come per cui generalmente vivono una sensazione di difesa dall'aggressione questa è la percezione perché in questo caso loro il sogno ce l'hanno loro stanno vivendo un sogno come essere aggrediti da qualcuno o da qualcosa possono essere anche animali feroci quindi è un tentativo di difesa da questa condizione e questo è il loro sogno dal punto di vista poi della realtà loro iniziano a dimenarsi nel letto compiendo degli atti molto 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 violenti nel senso iniziano a picchiare quindi effettivamente ci sono storie di coniugi che abbiamo anche eseguito noi che hanno la prima condizione che si fa la prima seconda è separare i letti nel senso che è separare le stanze meglio ancora perché effettivamente è una violenza incontrollata che si verifica durante queste fasi per cui ci sono ecchimosi lacerazioni traumi ma anche il paziente perché il paziente inizia a dimenarsi qualche volta si alza inizia a sbattere la testa contro il muro cioè sono degli atti molto violenti in cui il soggetto vive sì però vive in realtà un tentativo di difesa da qualcosa per cui se svegliato il paziente si trova disorientato però racconta di atti di aggressione questo disturbo ha una particolarità però è un disturbo tipico del soggetto più anziano cioè più frequente del soggetto adulto non è del bambino e si correla poi con è spesso un sintomo prodromico di quello che poi è l'evoluzione di alcune malattie neurodegenerative come il Parkinson e alcune forme di demenza come la demenza corpidilevio o la o l'MSA la atrofia multisistemia quindi si chiama si parla di alfasi nucleonopatie però vabbè nel senso che qualche volta questi pazienti tant'è vero che vengono monitorati nel tempo perché sviluppano generalmente nel corso degli anni anche degli anni anche di decenni però insomma in genere nell'arco di 2-3 anni un disturbo che può essere appunto la malattia di Parkinson o la demenza per cui o la atrofia multisistemica per cui vanno monitorati qui avevo fatto dei video ma mi sono stati censurati no semplicemente non li ho presentati prima quindi non posso proiettarli però si tratta di soggetti che durante il sonno come in questo caso per esempio questa è una signora che durante il sonno si siede e mette a posto per esempio il divano che è accanto al letto questo è un atto di sonnambulismo non violento però è un sonnambulismo REM invece quest'altro caso è un caso in realtà in cui simula una REM behavior disorder quindi un atto violento mette a soccuadro tutta la stanza della polisonnografia butti il letto distrugge tutto ma il soggetto inveglia quindi di fatto non è una condizione che rientra in una parasonia il soggetto è un simulatore poi possono essere tante le condizioni eccetera però questo serve anche per distinguere un atto violento reale compiuto in veglia da un atto violento non reale cioè nel senso che è un atto violento però compiuto durante il sonno questo invece è un soggetto che ha un REM behavior disorder vero cioè violento scalcia si dimena durante il sonno c'è anche un altro esempio di un soggetto che era un parroco che durante il sonno iniziava a dimenarsi sembrava posseduto da tant'è vero che è stato fatto anche un esorcismo per il parroco poi effettivamente invece c'aveva un REM behavior disorder e quindi è stato trattato la diagnosi ecco la diagnosi prima del trattamento la diagnosi può essere una diagnosi complicata soprattutto delle parasonie non REM ora chiaramente ci sono delle la diagnosi e partiamo dalla l'anamnesi cioè l'anamnesi ovviamente con delle testature dei test per valutare i disturbi del sonno per valutare gli abusi per valutare la sonnolenza di urna aiutano la testatura i vari test per capire la struttura del sonno del paziente dopodiché l'esame più importante è la polisonnografia e qualche volta come nel caso di questi esempi che avete visto qui la videopolisonnografia cioè la registrazione dei movimenti del paziente e valutare contemporaneamente l'attività cerebrale perché questo ci permette di capire se il paziente durante quell'atto in che fase è sonno-rem sonno-non-rem o addirittura veglia per distinguere ovviamente la situazione ma qui sono i montaggi la terapia la prima terapia sono le regole di igiene del sonno quindi abituare il paziente a evitare per esempio i sonnellini pomeridiani ma abituarsi ad andare a letto alla stessa ora insomma le classiche igiene del sonno che viene proposta anche un insonno dopodiché rendere sicuro l'ambiente cioè come detto la separazione delle stanze se possibile rispetto al coniuge oppure chiudere la finestra perché alcuni pazienti si defenestrano quindi sprangare porte e finestre o fuggono togliere le chiavi della macchina insomma cos'è così semplicemente per porre a sicuro il paziente il caregiver il coniuge poi trattare quelli che sono gli elementi precipitanti per esempio vi ho parlato delle apneosutive durante il sonno trattare le apneosutive durante il sonno oppure valutare se c'è effettivamente una dipendenza da sostanze o da altro e poi esiste anche una terapia farmacologica che devo dire non è così importante quanto in realtà la terapia non farmacologica nel caso delle parasonnie anche perché alcune parasonnie come per esempio ripeto il power notturno gli incubi eccetera non vanno trattati almeno che non alterano significativamente la struttura del sonno il re-behavior disorder quegli atti violenti si trattano con alcuni farmaci il clonazepam o la melatonina o tutte e due assieme oppure si possono poi utilizzare anche altri farmaci questo poi in associazione a questi farmaci iniziali quindi ho concluso nel senso la distinzione tra le violenze perché poi diciamo la violenza durante il sonno associato alle parasonnie non è sempre semplice qualche volta viene utilizzata come alibi per abili avvocati per cercare di però in effetti e questo vi riporto anche la nostra esperienza abbiamo esperienze di pazienti che hanno compiuto atti violenti ovviamente non grossi reati però insomma atti violenti nel confronto del congio effettivamente durante un'attività registrata di sonno quindi è una condizione che deve essere sempre presa in considerazione nel garantismo corretto non eccessivo ma insomma corretto vabbè io ho concluso certo la domanda che vorrei porre forse per mia incomprensione mancata comprensione non è infrequente l'uso dei cosiddetti sonniferi come elemento che agevola o determina il sonno quando il soggetto ha difficoltà a arrivare naturalmente a questa condizione mi chiedo se e come interferisca questo con gli aspetti che sono stati illustrati grazie allora in effetti è così nel senso che il farmaci dalle Z-drugs che sono diciamo dei sonniferi differenti alle benzodiazepine all'amitriptilina cioè sono tutti farmaci iptoinduttori che vengono ampiamente utilizzati nell'ambito della popolazione soprattutto la popolazione di mezza età insomma non necessariamente l'anziana ma anche nei giovani ormai l'utilizzo di benzodiazepine anche nei giovani è altissimo ora questi farmaci vengono utilizzati allo scopo di migliorare la qualità del sonno qualunque tipo di problema ci sia alla base purtroppo però se utilizzati in maniera impropria possono effettivamente aumentare la durata del sonno aumentare la durata del migliorare l'addormentamento quindi correggere l'insonnia precoce o allungare la durata del sonno e quindi migliorare l'insonnia terminale ma destrutturano il sonno cioè peggiorano poi la qualità strutturale del sonno e in alcune condizioni sono questi la causa di parasonnie infatti tra gli elementi scatenanti avevo proprio indicato l'utilizzo di farmaci tra gli elementi che possono precipitare possono indurre le parasonnie sono andato in realtà veloce su questa parte però assunzione di farmaci ipnoinduttori quindi che inducono il sonno quindi effettivamente in alcune condizioni soprattutto se ci sono poi degli elementi favorenti magari proprio costituzionali del soggetto si può effettivamente favorire l'insonnio di parasonnie cioè l'insorgenza di parasonnie migliorando apparentemente però l'insonnia non so se sono stato sufficientemente chiaro ci mancherebbe non può essere che chi svolge un'attività particolarmente frenetica intellettualmente e va a letto magari piuttosto tardi proprio per finire di fare certi lavori non riesca a dormire e quindi sia questa la causa quella è la causa dell'insonnia dell'insonnia sì cioè dell'insonnia l'ansia lo stress eccetera è una causa dell'insonnia è causa dell'insonnia sicuramente non delle parasonnie però cioè le parasonnie cioè un eccesso di adrenalina diciamo sì diciamo che più che altro è una condizione che non mette che riduce la fase avete visto nella fase iniziale lo slow way sleep cioè la fase di sonno profondo di sonno di ondelente riduce proprio quella qualità lo stress agisce su quella fase non modificando la fase REM quindi di conseguenza magari abbiamo anche dei sogni vividi la mattina eccetera ma in realtà la qualità del sonno non è un granché quella è effettivamente lo stress sull'insonnia ha un ruolo ovviamente importante grazie dottore dunque io quando ho pensato al sonnambulismo cioè ai sonnambuli non pensavo al sonnambulismo pensavo a quelli che sembrerebbero svegli ma non lo sono perché camminano per strada col telefonino che non ha ti urtano manco ti chiedono scusa chi porta la macchina guarda il telefonino e va a sbattere e quindi crea problemi tutti coloro che dovrebbero essere normali e invece secondo me come dicono i giornali così sono dei sonnambuli cioè non vivono vivono in un loro mondo particolare che sono pericolosissimi per te e per gli altri dunque adesso chi dottor Oliva ha lei la parola allora buongiorno a tutti grazie dell'invito sono un giudice tutelare presso il tribunale di Roma quindi sono uno di quei dieci giudici che qui a Roma si occupano in qualche modo di proteggere soggetti a vario titolo incapaci in tutto o in parte non merifisco quindi solo ai minori ma anche ai soggetti maggiorenni fragili misure di protezione sono quelle che applichiamo noi quindi siamo dei giudici per così dire buoni anche se il soggetto fragile dovesse avere anzi a volte ci facciamo anche carico di occuparci di persone che hanno commesso reati e che hanno patologie psichiatriche per esempio alla base della commissione di questi reati nel preparare questo intervento di oggi mi veniva in mente che quest'anno scade il ventesimo anniversario dall'entrata in vigore della legge numero 6 del 2004 sull'amministrazione di sostegno e in effetti da una trentina d'anni a questa parte la percezione dei soggetti maggiorenni fragili è cambiata radicalmente un tempo mi riferisco al codice civile del 42 così per decenni ancora i soggetti maggiorenni fragili erano visti come soggetti pericolosi pericolosi per gli altri pericolosi soprattutto per i traffici giuridici erano delle persone che dovevano essere in qualche modo emarginate dai traffici giuridici per mantenerne non dico la regolarità ma addirittura la validità per evitare che atti che fossero eventualmente posti in essere da questi soggetti andassero incontro a un'invalidazione o come nullità o quantomeno come annullabilità e le misure di protezione che erano approntate l'interdizione e l'inabilitazione erano proprio in realtà a tutela del resto del consesso sociale più che di queste persone erano perfette a questo scopo così come strutturate all'inizio e io ne ho fatto anche applicazione perché sono al giudice tutelare da parecchio tempo e i presupposti erano particolarmente rigidi non coprivano come l'amministrazione di sostegno un'ampia gamma di situazioni se uno era abitualmente infermo di mente tale diagnosticato doveva essere interdetto se invece la patologia era un po' meno grave o si trattava di una persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o alcoliche o un prodigo o un cieco o un sordo muto non adeguatamente contemperato con una idonea educazione dalla nascita doveva essere inabilitato e tutto questo avveniva attraverso uno strumento estremamente rigido estremamente poco d'utile che è la sentenza la sentenza di interdizione o di inabilitazione poi idonea passare in giudicato poteva da quel momento in poi soltanto subire una variazione cioè la revoca ammesso che fossero venuti meno i presupposti che avevano giustificato l'adozione del provvedimento non si poteva modificare in altro modo e le conseguenze di questi istituti erano molto gravi ed erano tutte precostituite per legge non c'era spazio alla fantasia ed erano soprattutto al di là delle espressioni adoperate di ordine patrimoniale l'interdetto un assoluto incapace di agire e l'inabilitato aveva qualche spazio di manovra ma era tutto sull'ordinaria amministrazione con la possibilità di compiere atti di straordinaria solo con l'assistenza del curatore in effetti diciamo una trentina di anni fa quando il dibattito ha cominciato a insorgere la idea che si è fatta via via a strada è stata quella di cominciare a considerare i soggetti fragili in una maniera completamente diversa ma non soltanto per recuperarli fin dove è possibile fin dove le loro limitazioni meno mazioni lo consentano recuperarli ai traffici giuridici ma anche per la prima volta è messo nero su bianco e nella legge prendersene cura l'articolo 405 al quarto comma del codice civile nel declinare la possibilità di adottare provvedimenti provvisorie urgenti parla proprio anche di provvedimenti che riguardano la cura della persona che è un'assoluta novità ma c'è di più l'articolo 410 ci dice al primo comma sempre codice civile che l'amministratore di sostegno ma direi l'amministrazione di sostegno includendo anche il giudice tutelare deve tenere in conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario qui andiamo addirittura al di là della cura qui andiamo proprio decliniamo sul progetto di vita vero e proprio e vi assicuro che tante volte noi creiamo una situazione di vita talmente migliore rispetto all'inizio che a volte mi chiedo di questi fanno una vita migliore della mia perché gli organizziamo tutto attorno per garantire che le cure siano date che possono fare una vita degna di questo nome siccome però il nostro legislatore vent'anni fa non era sicuro della scelta da fare ha mantenuto un doppio binario e noi attualmente siamo immersi in una sorta di esperimento il cui esito conosciamo benissimo ma vale la pena di ripercorrerlo cioè ha introdotto l'amministrazione di sostegno però nel contempo ha mantenuto l'interdizione in abitazione e ha pensato interveniamo anche sull'interdizione in abitazione alleggerendola mitigandola e facendo un'operazione che in realtà è stato un buco nell'acqua l'articolo 427 del codice civile è stato modificato e rivolgendosi ai collegi il legislatore ha detto quando emettete una sentenza di interdizione o di inabilitazione vedete se non sia il caso di consentire nel caso di specie all'interdetto di poter compiere da solo o con l'assistenza del tutore alcuni atti di ordinaria amministrazione o quando adottate la sentenza di inabilitazione vedete se non sia il caso di dare la possibilità all'inabilitato di compiere da solo senza l'assistenza del curatore atti addirittura di straordinaria amministrazione e questa possibilità era declinata anche in termini di eventuali provvedimenti giudiziari successivi di altra autorità giudiziaria che forse nelle intenzioni doveva essere il giudice tutelare anche se un po' ripugna pensare che un giudice monocratico possa modificare un provvedimento assunto da un collegio ma in realtà nessuna di queste possibilità che a me risulti in vent'anni è stata mai utilizzata in realtà l'amministrazione di sostegno che è uno strumento molto più agile adesso lo descriverò in termini generali a stravinto e praticamente l'inabilitazione è disapplicata l'interdizione è moribonda l'amministrazione di sostegno è uno strumento molto più agile viene applicato da un giudice monocratico appunto il giudice tutelare il provvedimento che conclude il procedimento non è una sentenza e questo forse è uno degli aspetti più critici della vicenda è un decreto ma è giusto aver indicato un decreto come strumento per applicare una misura di protezione perché il decreto a differenza della sentenza può essere modificato non solo revocato modificato in ogni tempo e via via adattato alle esigenze del caso specifico e poi le conseguenze del provvedimento e quelle non sono prestabilite dalla legge la legge ci dà dei canoni da seguire da rispettare ma siamo poi noi che nel provvedimento di nomina e eventuali successive modifiche dobbiamo declinare quello che il beneficiario di amministrazione di sostegno può fare o non fare e quindi quali sono i poteri dell'amministratore di sostegno diciamo che la strada è già tracciata l'interdizione e l'amministrazione sono destinate ad essere abrogate in fin dei conti la legge cartabbia ha già iniziato questa opera di demolizione non fosse altro perché ha abrogato un articolo che era estremamente farraginoso il 375 sull'interdizione che prevedeva il parere del giudice tutelare e l'autorizzazione del solito collegio che si occupa di persone e famiglie per le autorizzazioni relative agli atti più importanti gli atti di straordinaria amministrazione recentemente un'ordinanza della Corte di Cassazione prima sezione civile la numero 451 dell'8 gennaio ha detto una cosa molto opportuna giusta scontata ma valeva la pena di ribadirlo l'amministratore di sostegno non è un asuliario del giudice è un gestore degli interessi del beneficiario e devo dire che onestamente noi lo trattiamo come tale in che modo i poteri sono conferiti da noi sono attribuiti dal giudice tutelare e al quale poi spetterà anche il compito di autorizzare eventuali attività di straordinaria amministrazione che non sono contemplate inizialmente e poi spetta anche il compito di controllare l'operato dell'amministratore di sostegno in sede di relazione annuale o di relazione finale e noi seguendo le indicazioni del codice civile naturalmente decliniamo tre tipi di poteri i poteri di ordine economico il potere di inter quindi la gestione delle disponibilità economiche del beneficiario diciamo quali conti quali libretti quali cassette di sicurezza quali depositi e titoli lasciare aperti a nome esclusivo del beneficiario come operare su queste posizioni aperte a nome esclusivo del beneficiario quali sono i limiti di spesa di prelievo utilizzabili quali sono i poteri che riguardano la gestione immobiliare o eventuali partecipazioni societarie o cose di questo genere devo dire che sul fatto del limite di utilizzo economico che il codice civile ci impone per esempio il fatto che gli amministratori i primi tempi si presentassero con un decreto in mano che non era una sentenza ha fatto sobbalzare molte istituzioni di credito che noi questi limiti specie l'operatività online non siamo in grado di controllarli quindi non ve lo consentiamo io tante volte ho dovuto interloquire con queste istituzioni e dico è un provvedimento giudiziario lei deve dare esecuzione con l'amministratore di sostegno che fosse infedele e quindi dovesse effettuare delle spese o dei prelievi eccessivi e non giustificati ovviamente se la vedrà poi con noi e eventualmente con la procura della Repubblica e poi ci sono i poteri relativi ai rapporti con soggetti pubblici o privati in genere noi qui includiamo dall'agenzia dell'entrata all'Inps medici strutture sanitarie comune di Roma gestione di rapporti di lavoro domestico qualunque cosa le poste il ritiro della corrispondenza il ritiro di documentazione medica e poi la cura della persona e la cura della persona è assicurarsi che la persona sia adeguatamente curata e assistita e poi la possibilità anche di dare effettuare i trasferimenti residenziali di tipo sanitario non di cui il beneficiario abbia bisogno e anche dare i consensi informati ecco salvo casi particolari questo è importante sottolinearlo in cui bisogna dare fin da subito nel decreto di apertura e nomina dei poteri molto specifici molto puntualizzati in genere noi non facciamo quello che fanno per esempio i notai in una procura generale declinando un elenco di tutte le attività che la persona del procuratore può svolgere e la consapevolezza che più si specifica più si limita noi facciamo un'operazione un pochettino particolare siamo molto precisi nella materia di cui intendiamo trattare ma utilizziamo terminologie e locuzioni molto ampe in modo da ricomprendere quante più attività possibile noi diciamo che può l'amministratore di sostegno gestire in via ordinaria e previa autorizzazione in via straordinaria gli immobili intestati al beneficiario e non facciamo altro sicuri che dall'altra parte specie se c'è un interlocutore un amministratore di sostegno professionale sia in grado di discernere tra quello che è la ordinarietà e quella che è la straordinarietà quindi siamo molto generici e quindi l'amministratore di sostegno alla fine dei conti è dotato di tutti i poteri che sono necessari per la gestione ordinaria e spesso anche già di molti poteri relativa alla straordinaria e quello che mi interessa dire è che quello che ho appena detto è vero anche e soprattutto per la cura degli interessi personali del beneficiario e quindi per le cure anche mediche di cui avesse bisogno ma non perché dico soprattutto perché sono meno importanti ma perché sono la parte che incombe alla gestione dell'amministratore e più in generale del giudice tutelare che meno sopporta gli ingabbiamenti e le pastoglie burocratiche faccio un esempio all'inizio dell'applicazione della normativa in tema di amministrazione di sostegno noi eravamo particolarmente rigidi e chiedevamo che imponevamo che fossero autorizzate preventivamente tutte le cure e tutti i consensi informati abbiamo in poco tempo verificato che abbiamo creato più problemi che altro perché tra il momento in cui depositi l'istanza il momento in cui viene lavorata portata all'attenzione del giudice fatta l'autorizzazione vistato dal pubblico ministero prodotta la copia autentica passavano dei giorni e magari l'emergenza era finita in un modo che non era quello che desideravamo noi quando ci occupiamo quindi della cura dei soggetti fragili noi decliniamo dei poteri quindi estremamente ampi ora a me interessa soprattutto sottolineare tre aspetti siccome quello che dobbiamo affrontare è un progetto di vita noi ci occupiamo per esempio del luogo in cui il beneficiario deve continuare la sua vita non è un aspetto di poco conto e non lo scriviamo mai nei nostri provvedimenti ma naturalmente quello che noi predileggiamo è l'accudimento domestico naturalmente fin dove è possibile fin quando è possibile cioè spostare persone fragili che hanno un qualunque tipo di problema è per noi un esercizio di potere che non non ci sentiamo di utilizzare e ne consentiamo agli amministratori di sostegno di utilizzarlo fatti salvi naturalmente i casi limite e non mi riferisco soltanto a quando le patologie si aggravano a tal punto da dover richiedere un'assistenza sanitaria medica paramedica specialistica continuativa tale da non poter essere somministrata in ambiente domestico può anche capitare che ci siano purtroppo delle questioni di ordine economico che impongano di fare simili cambiamenti trasferimenti residenziali immaginate una persona anziana fragile proprietaria della casa ma che non ha delle grandi disponibilità economiche che già deve pagare tanto per la conduzione della casa deve pagare anche un badante le sue sostituzioni le cure che magari in certi casi non vengono purtroppo sostenute dal servizio sanitario nazionale a quel punto si potrebbe addirittura dover optare per un ricovere in una struttura sanitaria e magari recuperando la casa a una redditività che può consentire alla persona di andare avanti in modo più tranquillo e non veder depauperate rapidamente le sue disponibilità economiche in questo ambito come in tutti la stella polare è naturalmente sempre quella dell'interesse dell'amministrato noi possiamo sentire chiunque anche i familiari più stretti eccetera ma se quello che costoro esprimono in termini di proposizione per il loro congiunto non va nella direzione del migliore interesse per quest'ultimo ce ne discostiamo assolutamente e il giudice tutelare in questa fase come interviene ma interviene in realtà spesso e volentieri perché la cura degli interessi personali del beneficiario è in realtà la cura più difficile quella nella quale vengono fuori tante magagne e tante incertezze dell'amministratore di sostegno sia esso parente o professionale cioè un avvocato oppure un volontario oppure un familiare e quindi noi siamo naturalmente a disposizione per risolvere ogni questione più intricata per sbrogliare le matasse più delicate c'è un solo caso nel quale c'è l'obbligo comunque quale che sia la modalità attraverso cui si è raggiunta la decisione di trasferire una persona in una struttura o piuttosto in un'altra abitazione c'è un solo caso in cui quale che sia questo sistema adoperato per raggiungere questa decisione una decisione autonoma dell'amministratore una concertazione tra l'amministratore il beneficiario e i parenti una decisione del giudice in cui questa decisione una volta attuata concretamente va comunicata al giudice tutelare quando la residenza effettiva civilistica del beneficiario va fuori del circondario del nostro tribunale perché a quel punto cambia la competenza e dobbiamo trasferire il fascicolo altrove poi c'è il tema delle cure questi aspetti che sto dicendo poi sono anche spesso concatenati tra di loro beh l'articolo 404 del codice civile ha un'elincazione di presupposti per l'applicazione dell'amministrazione di sostegno che è vastissima noi praticamente ci possiamo occupare di qualunque situazione quindi non solo patologie psichiatriche neurologiche vittime di incidenti stradali chi inclina il barbonismo domestico casi di anoressia e chi più ne ha più ne metta è una casistica immensa nella relazione introduttiva illustrativa di quella che poi è diventata la legge numero 6 del 2004 si parlava anche semplicemente tu non sai tu ti accorgi che la persona è fragile per ma non sai esattamente per la senilità per la vecchiaia per l'avanzare dell'età non c'è però una diagnosi ben precisa però anche quello può essere sufficiente per aprire l'amministrazione di sostegno per non parlare della novità delle novità cioè la possibilità anche di aprire un'amministrazione di sostegno di fronte a menomazioni o limitazioni fisiche cosa che era assolutamente impensabile nel sistema precedente e ce ne sono tante io ho assistito all'apertura della prima amministrazione di sostegno di questo tipo tanti anni fa ha riguardato un professore universitario titolare della cattedra di fisica in un'università qua di Roma che per una malattia neurologica molto cattiva aveva perso l'uso di tutti e quattro gli arti braccia e gambe era una persona che era in balia di chi spingeva la sua carrozzina aveva una moglie non in grado di aiutarlo non aveva figli e una volta fu ricattato da un personaggio straniero che spingeva la carrozzina era al soldo suo e dice io ti lascio qui in mezzo all'incrocio se non mi dai i soldi per dire questa era una persona che ci stava perfettamente con la testa portava a laurea i suoi studenti e quindi in altri tempi non sarebbe stato minimamente messo sotto misura di protezione con una certa difficoltà perché c'è anche bisogno di in qualche modo modificare anche la testa dei magistrati adeguarsi alle novità normative poi l'abbiamo messo sotto amministrazione ma vorrei parlare anche dei malati di SLA a me è capitato di incontrarne tanti purtroppo e sono prigionieri del loro corpo alla fine finiscono soltanto per accomodare gli occhi e attraverso di essi parlare con i vari sistemi che sono possibili a riguardo però con la testa ci stanno ci stanno e il loro dramma è proprio quello sono perfettamente capaci di intendere di volere ma non sono capaci più di gestire i loro interessi perché sono due concetti che non necessariamente si sovrappongono allora a noi tocca naturalmente fin dall'inizio prendere contatto attraverso l'amministratore di sostegno con medici e strutture di riferimento può darsi che troviamo una situazione già tranquilla ci muoviamo sulla linea che è già stata tracciata può darsi che ci sia un il bisogno di costruire tutto ex novo quasi questo capita più frequentemente di quanto non ci immaginiamo e non riguarda soltanto persone relativamente giovani da poco diventate maggiorenni ma anche con persone di età avanzata ma com'è che non le avete portati prima al giudice tutelare o comunque in tribunale per una misura di protezione perché poi molto spesso scopri che di certe patologie di certe problematiche familiari le famiglie si vergognano e quindi tengono tutto sopito tutto in una sorta di sordina e tanto poi provvedono in qualche modo in famiglia si provvede in effetti questo trovava una sponda fino a una ventina di anni fa anche nell'Inps il quale se doveva far fare una qualunque attività per il congiunto incapace ai genitori ne accettava la firma al posto senza bisogno che avessero qualunque veste legale per farlo adesso l'ufficio legale dell'Inps è molto cambiato e ovviamente esige l'apertura di una misura di protezione per fare qualunque cosa e non è più possibile che una pensione di invalidità piuttosto che un'indenità di accompagnamento vada a finire su un conto che non sia intestato in via esclusiva alla persona beneficiare di amministrazione di sostegno il tema delle cure è un tema che propone una criticità molto importante e mi spiego nel sistema approntato attualmente l'articolo 411 prevede che noi possiamo all'occorrenza estendere alcuni divieti alcune limitazioni che erano previste che sono previste per l'interdizione e l'inabilitazione ora lasciando da parte l'inabilitazione che ormai è un istituto assolutamente disapplegato mi rifisco all'interdizione quando tu sei interdetto effettivamente qualunque consenso a qualunque trattamento terapeutico viene dato tranquillamente dal tutore e nessuno trova nulla da ridire se io devo ricorrere a questo sistema ed estendere le limitazioni proprie dell'interdizione anche a un amministrato dovrei teoricamente in sintonia con il sistema dell'interdizione che si applica solo agli abitualmente infermi di mente farlo solo per persone che sono abitualmente inferme di mente e quindi dire questa persona si precisa che questa persona non può dare il consenso a alcun tipo di trattamento terapeutico ad effettuare alcun tipo di ricovero e soprattutto non può firmare le dimissioni da alcun luogo di cura e non può revocare alcun consenso a un trattamento che sia stato a lui somministrato in realtà questo però non funziona è auspicabile che infatti venga fatta chiarezza sul punto dal legislatore che finalmente gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione siano consegnati alla storia e si adoperi nel senso che il giudice tutelare possa diciamo liberamente operare in quella direzione perché ci sono dei casi in cui la persona funziona benissimo per tutto il resto ma tu devi intervenire per altro ci sono le persone che sono anoressiche io ne ho una che lavora per una grande una giovane donna che lavora per una importantissima istituzione nel nostro paese funziona benissimo nel lavoro è efficientissima intelligente eccetera però ha questo grave problema se io non le pongo dei limiti è cosa che ho fatto e in realtà i nostri provvedimenti sono attenzionati dalle associazioni che si occupano di questo tema perché sono molto interessate a vedere come li affrontiamo e come risolviamo se io non pongo a questa ragazza dei limiti tu su questo aspetto specifico delle cure che servono per farti recuperare il peso e di farti ritornare in una condizione di vita normale se io ti lascio se io non ti pongo dei limiti su questa situazione se io non ti privo della possibilità di decidere ti lascio libera di decidere anche di smettere una cura eccetera eccetera io ti perdo ma qui si tratta della vita del confine tra la vita e la morte ma lo stesso vale per certi ragazzi che sono purtroppo preda di abuso di sostanze alcoliche di abuso di sostanze stupefacenti non vi dico quelli a doppia diagnosi che hanno anche patologie psichiatriche ma anche semplicemente l'inclinazione all'abuso di sostanze e lì è una guerra è una guerra magari sono persone che per il resto quando non sono preda delle sostanze medesime funzionano bene per tutto il resto però rispetto alle cure che sono necessarie tu devi intervenire io non vi nascondo che spesso noi lo facciamo spesso soprattutto quando si tratta di giovani perché a mio avviso avviso anche di tanti colleghi c'è comunque una ragione di stato chiamiamola così salvare queste persone che effettivamente si impone che supera ogni tipo di considerazione e poi c'è il tema del consenso informato il consenso informato sappiamo tutti che è un io ne ho accennato poc'anzi il fatto che gli amministratori di sostegno li possono dare tutte le volte che sono investiti di una scelta di questo tipo si tratti di interventi diagnostici invasivi piuttosto che trattamenti di medicina preventiva o trattamenti di medicina diciamo così curativa non so se è l'espressione corretta da utilizzare raccontiamo agli avvocati naturalmente di assicurarsi che l'informativa sia esaustiva se sono delle patologie croniche di lungo corso che sia continuamente aggiornata che espliciti esattamente il caso specifico cioè le condizioni di salute della persona qual è il trattamento proposto quali sono i benefici i rischi del medesimo quali le alternative quali sono le conseguenze di un eventuale rifiuto anche su questo settore come più in generale sul settore delle cure naturalmente noi siamo sempre a disposizione per fare da sponda perché a volte si tratta di cure pesanti di ricoveri per molto tempo i malati psichiatrici però il settore nel quale grande novità introdotta dalla legge 219 del 2017 noi ci confrontiamo non dico spesso ma insomma più volte a me è capitato è quello dell'approssimarsi al fine vita a questo tema la legge 219 del 2017 dedica alcuni articoli specifici il canone fondamentale sarebbe quello della tutela della salute della vita del soggetto incapace e ci mancherebbe insomma c'è l'articolo 32 della costituzione che parla molto chiaramente però l'articolo 2 della legge che ho menzionato ha introdotto anche c'è la possibilità diciamo del lasciar morire cioè quando si avvicina il una prognosi ormai in fausta a breve termine o c'è quasi diciamo l'imminenza del decesso ferma la somministrazione di della terapia del dolore ovviamente fino ad arrivare alla sedazione profonda in buona sostanza è legittimo è possibile dare istruzioni se già non le ha date il diretto interessato con i DAT acronimo che significa disposizioni anticipate di trattamento date in precedenza già diventato maggiorene quando era ancora a Compus Sui naturalmente quindi dare istruzioni perché il trattamento nelle modalità che sono previste dalla legge stessa che forse andrebbero anche un po' riviste perché poi passa molto tempo purtroppo prima che la persona passi a nuova vita e tutte le volte in cui mantenere quei trattamenti di continuarli somministrarli è inutile ma anche sproporzionato ma anche ridondante io nelle nelle mie letture in materia poi ho riscontrato che ve lo volevo leggere è poi anche una dottrina un po' più risalente di quello che pensassi della della Chiesa io ho trovato un passo di Papa Pio XII addirittura nel 1956 in una lettera di saluto a un congresso di anestesisti e rianimatori disse si possono appunto interrompere cure o trattamenti inutili o sproporzionati che leggo testuale non portano alcun reale beneficio alla salute del paziente e che avrebbero il solo scopo di procurare un prolungamento precario e penoso della vita questo nella teoria nella pratica non mi nascondo che primo non ho mai visto non posso dar loro torto un amministratore di sostegno che sia stato in grado di prendere il coraggio a piene mani e di autonomamente decidere il fine vita di un suo amministrato anche nei casi più disperati normalmente questa è una materia che viene accollata a noi e io le volte in cui mi sono trovato a dover decidere una cosa di questo genere sono stato molto in difficoltà e ho sempre deciso ho preso queste decisioni sul su malati di SLA in uno in particolare in un caso io ero forse ho commesso un errore nel senso che la prima volta fui convocato al reparto del gemelli che si occupa di questo tema che si chiama Nemo che è un reparto all'interno bellissimo tutto irradica di noce eccetera ma ha dei pazienti che fanno veramente pena tenerezza pena e mi dissero dice guardi dottore che avevo di fronte tutto il reparto dal primario a tutti i medici gli infermieri c'erano anche due medici esperti in bioetica del gemelli tutti remavano in quella direzione ma io di cui ho un ricordo bellissimo lo conoscevo e l'ho conosciuto per dieci anni ci ho parlato lui con gli occhi mi parlava perché seguiva il tabellone delle lettere e c'era qualcuno che traduceva al suo posto e poi avevo imparato anche io a tradurre e a capire cosa lui mi stesse dicendo e l'unico malato di questo tipo che io abbia trovato pieno di vita speranzoso e sicuro che sul suo caso personale avrebbero costruito una terapia in grado di tirar fuori da quella situazione da quel corpo che lui non riusciva più a governare non solo lui ma anche altre persone come lui per cui in quella circostanza il mio errore è stato unico da solo contro tutti poi alla fine un pochettino spalleggiato effettivamente mi ha in quel momento dato ragione il figlio che era l'amministratore di sostegno a oppormi perché io sapevo esattamente che cosa albergava nella testa di quest'uomo e lui non voleva morire è passato un anno e a quel punto il professor credo Sabatelli del reparto Nemo ha detto alla prego siamo andati oltre l'immaginabile siamo non siamo terminali siamo di più noi non sappiamo nemmeno se sta soffrendo può morire siccome è attaccato a tutti i presidi possibili immaginabili dalla respirazione forzosa alla PEG tutto lui può morire solo di setticemia a questo punto però non siamo neanche in grado di capire se questo possa avvenire o meno dobbiamo assolutamente intervenire e a quel punto con molta difficoltà io ho dovuto dare il consenso però la morte è poi avvenuta con la insedazione profonda ma con la sospensione dell'alimentazione dell'idratazione eccetera eccetera io ne ho avuto notizia ed ero il primo che dovevo essere avvisato tre settimane dopo non mi è sembrata una cosa particolarmente esaltante insomma se dobbiamo far concludere prima il ciclo vitale di una persona è il caso che forse si adottino altri sistemi questo mi è sembrato mi sembra ma è l'unico che la legge prevede un tantino pesante anche e soprattutto per chi poi assiste ed è in attesa della notizia ho concluso grazie dottor Oliva io ho fatto io volevo fare una domanda posso? certo allora esalta due uno allora la prima è questa allora noi ci occupiamo anche di malattie tempo dipendenti quindi per esempio l'ictus è una classica patologia che così come l'infarto e il trauma ha bisogno della tempestività dei trattamenti e l'ictus rappresenta forse l'esempio migliore ma anche il trauma molto sommato in cui il paziente da una condizione di benessere quindi di totale autonomia autodeterminazione e tutto il resto si passa a una condizione di fatto un paziente che può avere una alterazione del stato di coscienza una sospensione del stato di coscienza di fatto con incapacità è chiaro che in quelle condizioni il consenso informato per alcuni trattamenti invasivi ne aveva fatto Cenno precedentemente non si può pensare di istituire un amministratore di sostegno tutto il resto eccetera per effettuare delle procedure no invece se questa è la domanda le rispondo immediatamente è proprio il tipo di istituto che consente questo guardi che noi no è acceso scusate allora no le amministrazioni di sostegno vengono anche aperte ad hoc anche per una sola cosa specifica chiaro che bisogna valutare attentamente se mi vengono a dire è come nel caso che sta dicendo il dottore è questa persona che si era impegnata in un preliminare di una vendita immobiliare ha avuto un ictus non è più in grado di andare a stipulare il definitivo occorre che qualcuno lo faccia al suo posto gli dico sì ma io non posso autorizzare soltanto la stipula del definitivo io devo autorizzare tutto un mondo di altre cose fuori perché poi si tratta di incassare anche il prezzo di stabilirne il reimpiego di controllarla cioè sono delle è un'attività molto più ampia e poi già che ci siamo gli diciamo ma insomma ci dobbiamo occupare anche di altre cose quindi non è solo quello che va autorizzato e quindi poi alla fine divarichiamo ma ci sono anche altre situazioni nelle quali l'autorizzazione viene data soltanto per un caso specifico e guardate a me è capitato molto spesso in noi abbiamo anche noi i nostri turni di urgenza io ce l'ho il lunedì per esempio e ti capita magari quello che ti arriva col ricorso per amministrazione di sostegno e dice c'è papà che non è più in grado di dare il consenso informato a una frattura sta già in trazione ma non lo operano si oppongono perché lui non è in grado di dare il consenso informato io mi chiedo che cosa ci sta a fare l'articolo 54 del codice penale ma poi mi dico ma posso far continuare a stare questa persona in trazione che magari ci sta già da 10-15 giorni mentre dovrebbe subire un intervento e quindi alla fine diamo l'apertura dell'amministrazione di sostegno e la diamo anche solo per dare il consenso informato all'intervento chirurgico per la riduzione della frattura al femore faccio un esempio quindi è possibile in realtà però i tempi a cui faccio riferimento non sono i tempi della frattura cioè il paziente con ictus deve fare un trattamento entro 4 ore e mezzo dall'esodo dell'ictus quindi è un paziente che faccio un esempio adesso sto considerando le malattie tempo dipendenti perché sono quelle condizioni in cui il ritardare di 10 minuti significa determinare la morte quindi considerando un miliardo per minuto di 15 miliardi di neuroni quindi di fatto rendere il paziente più disabile di quello che è quindi ci sono delle condizioni in cui in realtà sebbene chiaramente alcune procedure non necessitano di un consenso informato perché sono buona pratica clinica e quindi chiaramente non si attende però ci sono alcune condizioni in cui delle procedure ancora non ufficialmente adottate quindi dalla good clinical practice e tutto il resto che però sono di fatto rutinarie che necessitano quindi di fatto di un consenso informato in alcune condizioni chiaramente non hanno i tempi per l'attivazione sebbene rapida di una condizione del genere perché stiamo parlando di ripeto minuti per il trattamento o al massimo un'ora di fatto quindi non credo che questo sia compatibile con la nostra tempistica cioè per quanto veloci noi siamo facciamo tutto nell'arco di qualche ora in una mattinata io però ricordo di un facsimile di consenso informato che era adottato qualche anno fa dal Gemelli il Gemelli in modo molto armati di pragmatismo richiedevano a loro bastava semplicemente anche in assenza di una misura di protezione e quindi di chi potesse parlare in veste legale del paziente si accontentavano semplicemente che una persona stretto familiare il più stretto che era a disposizione potesse esprimere il consenso secondo quello che avrebbe fatto il diretto interessato se fosse stato in condizione di parlare scrivere sottoscrivere eccetera qui bisogna un po' intendersi cioè alla fine bisogna anche un po' adattarsi al caso specifico e fare di necessità virtù ci sono come dire gli appigli anche normativi per poter intervenire anche in assenza di un consenso informato diciamo fatto e rilasciato con tutti i grismi noi lo facciamo nel lavoro al Gemelli lo facciamo per alcune forme è più un'informativa del paziente alla fine la responsabilità è comunque del medico nel senso che è chiaro che il medico in scienza e coscienza cerca di agire nel migliore nell'interesse del paziente quindi di fatto chi meglio di lui non conosce in rapporto a quella condizione quali sono i rischi e i benefici quindi alla fine il rapporto rischio-beneficio lo sa meglio il medico del paziente del parente del paziente che magari diciamo anche da un punto di vista di competenze chiaramente non è quindi generalmente è un'informativa in cui si informa il paziente il parente del paziente il caregiver insomma la persona più vicina che non necessariamente è un parente che si procederà in questo modo dopo aver valutato e soppesato quali sono i vantaggi e quali sono i svantaggi del trattamento cioè nel senso è una presa di coso e lo stesso volevo dire sulla parte dell'accanimento comunque sulla parte del paziente terminale alla fine in condizioni non ci capita spesso di avere pazienti neurologici al di là della SLA del centro nemo di Mario Sabatelli anche pazienti terminali perché sono molto anziani hanno delle comorbità importanti hanno insufficienza respiratoria e tutto il resto condizioni per esempio ictali come l'ictus nella fase avanzata oppure patologie oncologiche cerebrali e anche quelle in fase avanzata in cui anche lì alla fine l'accanimento terapeutico è qualcosa da evitare ma dalla parte del medico nel senso poi anche lì è un'informazione che noi diamo ai parenti nel senso che non si procederà a manovre rianimatorie in un paziente di 90 e rotti anni in fase terminale eccetera nel senso il perché poi anche in quel caso la decisione alla fine del medico che si assume la responsabilità di quel tipo di atto alla luce appunto di quello che è la prognosi del paziente a breve termine poi sul tipo di procedura per procedere alla fine vita si può scrivere di tutto nel senso purtroppo allora la sospensione dell'alimentazione eccetera tra l'altro viene esancita anche dalla parte anche dal nostro comitato etico nel fatto come aveva fatto accenno alla presenza di Spagnolo penso che sia che era presente in quell'occasione o altri membri del nostro comitato etico è di fatto prevista devo dire che ci sono comunque delle procedure di sedazione terminale nei pazienti ovviamente in cui è congruo questo tipo di trattamento che sono abbastanza blande diciamo quindi di fatto alla fine prolungano la sofferenza del paziente che magari è senza liquidi senza cibo quando in realtà ci sono delle diciamo si potrebbe essere un po' però questa è una condizione è una diciamo scelta medica vincolata da quelle che sono le normative però anche lì la responsabilità alla fine di decidere il tipo di procedura la tempistica di quando procedere quando in realtà si vede chiaramente che si si trova in una condizione di accanimento terapeutico e il medico anche perché coinvolgere i familiari in questa scelta può essere in realtà un rischio nel senso che anche per difficoltà a staccarsi dal congiunto da una parte possono avere difficoltà a staccarsi dal congiunto dall'altro possono avere anche l'interesse cioè nel senso ah beh sì certo quindi di fatto per questo invece il medico che dovrebbe essere al di sopra delle parti in realtà è la condizione diciamo la persona più adatta a poter prendere alla fine questa decisione in cui i parenti chiaramente posso dire perché abbiamo visto pazienti ultracentenari in cui i figli in realtà avrebbero mantenuto il paziente in vita con una condizione non umana ovviamente però a quel punto è il medico che chiaramente deve fare una scelta e basta ok vabbè l'ho certo dunque premetto che io sono contro il fine vita però sono favorevole alla cessare la cessazione delle cure oltre misura insomma a parte questo devo dire che io ho fatto l'amministratore di sostegno moltissime volte e ho imparato tante cose che non avrei mai imparato senza farci e è servito a me e è servito molto anche ai miei assistiti tant'è vero che c'ho una coppia ancora di di fratelli gemelli che quando mi vedono vanno insubbrando il zucco sono felicissimi di incontrarmi perché li avevo assistiti poi ho smesso perché per motivi miei perché ho avuto dei problemi per cui non potevo assisterli come volevo io e quindi ho ceduto l'amministratore di sostegno ma quando li vedo perché qualche volta li vado a trovare mi abbracciano e baciano e credo che faccia parte anche proprio del lavoro perché umanamente uno li deve seguire non soltanto l'attuale amministratore di sostegno va paga la retta e se ne va e che è un amministratore di sostegno non fa il suo dovere secondo me comunque diciamo che l'amministratore di sostegno è in molti casi di sia un campo di droga alcol e malattie degenerative una figura essenziale direi sia per sostegno anche alla famiglia che spesso non ce la fa a tenere dietro a queste persone allora che cosa si dice dello sport come recupero diamo la parola a Ivo Pulcini che ha un grosso difetto di nascita il dottore della della Lazio che la segue in tutto il mondo io sono romanista grazie avvocatessa Alessandra Civello per l'invito saluto gli illustri relatori e il gentile uditorio che ha la pazienza di ascoltare mi devo prima di tutto complimentare con Giovanni Frisullo il collega che con grande maestria ci ha esposto un argomento che nonostante proprio l'argomento delle parasonnie del sonnorem del sonnambulismo del sonniloco è riuscito a non farci addormentare e questo è un privilegio e credo che il problema dei sonnambuli o violenti per interpretarli come intende il professor Barra cioè come persone fatte sia un fenomeno purtroppo di portata mondiale lo considero una pandemia difficilissimo non è non credo di essere pessimista difficilissimo da curare e ci vorrebbe un miracolo chi fa il miracolo è solamente uno Gesù Cristo proprio parlando di Gesù Cristo mi ricordo le parole fatidiche che pronunciò io sono la via la verità e la vita quindi probabilmente lui aveva previsto che tutta questa massa di persone fatte avrebbe perso la via però indico anche le figure professionali che potevano forse risolvere il problema la verità affidata agli avvocati e la vita e la salute affidata ai medici per questo come ordine dei medici di Roma io sono il decano da diversi anni dell'ordine dei medici di Roma con 48.000 iscritti abbiamo fatto per così dire un gemellaggio un accordo con l'ordine degli avvocati proprio per questo scopo cercare di collaborare per servire la verità e soprattutto per tutelare la salute e la vita importante io come vedete dalla diapositiva ho lasciato il simbolo della Lazio ma non per una fede calcistica che è una cosa che viviamo a parte perché da 18 anni sono il direttore sanitario di questa squadra non solo della prima squadra ma della primavera della della giovanile della femminile e quindi ho a che fare con i giovani e dal medico sportivo visto che le figure professionali che un tempo tutelavano la salute dei giovani mi riferisco al medico scolastico mi riferisco al medico militare figure preziosissime che facevano da filtro e che scoprivano in sede preclinica precocemente determinate malattie che non solo davano salute e vita alle persone affette da queste malattie ma riducevano anche i costi per quella che poteva essere la spesa sanitaria nazionale ora perché la Lazio da dieciott'anni perché credo nella prevenzione lo sport è prevenzione più che terapia e io non mi occupo di terapia chimica quindi farmacologica pur essendo un appassionato di farmacologia visto che l'ho studiata insieme al medico della nazionale tedesca in Germania a Kiel il professor Wolframuller e mi occupo di terapia fisica che significa che mi occupo dell'aspetto psicologico degli atleti del loro stile di vita della loro postura e del recupero immediato insegnando loro il comportamento corretto perché tanti traumi perché molti hanno bisogno di ricorrere al doping ecco qui un altro aspetto del sonnambulismo nello sport per fortuna è meno diffuso perché c'è il controllo antitopico e c'è la famosa legge del 2000 che ci mette in guardia noi medici sportivi posso dire ma non per un vanto che non serva a niente per essere di stimolo e di esempio agli altri colleghi che la Lazio è stata la prima ad andare in lockdown o il covid è stata la prima ad adottare un sistema che si chiama sistema SDS cioè col semplice elettrocardiogramma con dei sistemi che sono degli algoritmi studiati in modo internazionale soprattutto a Seattle di prevedere loro dicono che ho 10 anni d'anticipo ma fosse pure di un anno d'anticipo la morte improvvisa in campo e con la prevenzione l'altra è quella di insegnare ai giovani agli atleti e qualora lo vogliono anche le loro famiglie a rianimare a portare in vita una persona che ha avuto un arresto cardiaco noi sappiamo che ogni 100.000 abitanti c'è un arresto cardiaco in Italia ne avvengono 60.000 all'anno e la Lazio ogni due anni fa i corsi di rianimazione cardiopolmonare sapendo questi giovani usare il defibrillatore con una tessera che è l'internazionale dell'American Heart Association che li abilita a esercitare questo compito in tutti i paesi del mondo quindi è un patrimonio non solo nei piedi perché sono dei campioni con i piedi ma un patrimonio anche nel cuore e nella testa perché possono in qualunque momento salvare la vita alle persone che vanno incontro ad arresto cardiaco come è successo ad Ericsson Ericsson è vivo pur avendo quella grave patologia perché il massaggio cardiaco è stato fatto nel primo minuto e il defibrillatore è venuto nel secondo terzo minuto per questo come ordine dei medici di Roma e cuore sport eccetera abbiamo pensato di cardioproteggere la capitale in occasione del giubileo grazie all'Otito io faccio un complimento non al presidente della Lazio ma al senatore Lotito sono andato in senato ho detto ho una folla idea voglio cardioproteggere Roma per il giubileo non come Ivo Pulcini ma come ordine dei medici in tre ore è riuscito a fare un emendamento approvato all'unanimità sia dalla Camera che dal Senato e ha stanziato un milione e duecentomila che permetteranno di installare 350 defibrillatori e preparare duemila cittadini volontari alle manovre salvavita la regione ha avuto questo fatto ci ha chiamato e ha detto pure noi siamo preposti alla tutela della salute pubblica come l'Ordine dei Medici è un organo sussidiario dello Stato a tutela della salute dei cittadini come enti pubblici vogliamo dare un contributo e daranno circa 3 milioni di euro e questo permetterà di installare circa 2.000 defibrillatori in tutti i posti strategici per il giubileo che resteranno anche dopo il giubileo ovviamente a beneficio della popolazione non solo romana ma di tutta la regione quindi sarà merito della regione ora però voglio parlare di quella che era l'argomento e cioè il sonnambulo i sonnambuli violenti e cosa può fare lo sport per contrastare facciamo vado veloce così l'attività fisica migliora la salute cardiovascolare in che modo la sedentarietà ovviamente crea dei problemi problemi soprattutto sociali per quanto riguarda l'obesità il 30% dei giovani degli studenti purtroppo sono sovrappeso o addirittura obesi e quindi candidati ad avere malattie cardiovascolari ad avere patologie che voi vedete nel sovraimpressione e la sindrome ipocinetica è quella che ovviamente prelude apre la porta a tutti le possibili patologie la pressione il diabete l'ipertensione il diabete l'ipercolesterolemia l'ictus l'infarto e quant'altro allora nel cuore d'atleta cosiddetto d'atleta che un tempo era un cuore considerato quasi patologico perché era sconosciuto ai cardiologi che non si occupavano di sport io sono un cardiologo un cardiologo dello sport e quindi ho affrontato più volte questi argomenti per semplificare cosa fa il cuore in un atleta in un soggetto sedentario normale di 70 kg ad ogni sistole cioè ad ogni contrazione del cuore viene mandato in circolo una quantità di sangue pari a circa 70 cm3 e nell'atleta allenato di professione questi 70 cm3 diventano 180 anche 200 e come è possibile in un soggetto normale la frequenza cardiaca è 75 80 85 nell'atleta a coppie aveva 32 36 battiti e che differenza c'è tra un tachicardico cioè uno che ha i battiti frequenti e un bradicardico uno che invece ha i battiti rallentati vi faccio un esempio molto carino la il testugine come si chiama la tartaruga la tartaruga delle Galapagos vive 180 a 200 anni sapete quanti battiti ha che frequenza cardiaca ha al minuto 6 invece il colibri che campa mesi o un anno adesso non ricordo bene sapete quanti battiti ha al minuto 600 facendo la somma dei battiti cardiaci del colibri e della tartaruga alla fine del loro ciclo di vita sono uguali quindi teoricamente chi ha una bradicardia indotta ovviamente dall'attività fisica è candidata ad avere una vita teoricamente più lunga questo detto e come avviene? quando un soggetto comincia a fare sport e come abbiamo detto ad ogni sistole manda 70 cm3 di sangue in circolo il cuore con lo sforzo tende a dilatarsi perché il muscolo più si dilata però deve essere caldo se si dilata ovviamente aumenta la sua capacità di contenere un volume maggiore ma anche una forza maggiore di contrazione se prima io avevo una frequenza di 80 battiti al minuto e mandavo in circolo 70 cm3 in questa cavità se ne contiene 180 cm3 ovviamente devo dare il tempo di riempimento a questa cavità quindi i battiti non possono rimanere 80 cm3 devono scendere perché il tempo aumenta e questo è il motivo per cui la pressione noi distinguiamo la pressione arteriosa in sistolica diastolica e differenziale molto poco si parla della differenziale in realtà la sistolica nel soggetto nell'atleta aumenta la diastolica diminuisce perché diminuiscono le resistenze periferiche la cosiddetta capillarizzazione quando uno comincia a fare sport ha dolori e crampi muscolari alle gambe perché i capillari si formano aumentano e quindi il letto vascolare aumenta aumentando il letto vascolare diminuisce la pressione arteriosa e diastolica naturalmente ci sono i rischi in chi fa lo sport e in chi fa una vita sedentaria e che cos'è un rischio è l'eventualità di subire un danno connesso a circostanze più o meno prevedibili poi ci sono i fattori di rischio che cosa sono i fattori di rischio fattori di rischio è una variabile stile di vita esposizione ambientale o genetica che predice la probabilità di ammalarsi in un certo periodo i fattori di rischio cardiovascolare non modificabili sono l'età il sesso la razza la familiarità i comportamentali si possono modificare sono lo stile di vita la vita sedentaria un'alimentazione scorretta l'uso di alcol o di fumo la sigaretta ma soprattutto l'idratazione noi sappiamo che un bambino alla nascita è composto al 90% di acqua una persona di 100 anni più o meno è composto del 50% quindi l'idratazione è così importante che potrebbe essere indicata come un indice di vecchiaia più uno è disidratato e prima invecchia avete visto la pelle del fumatore che ha la pelle aggrinzita non idratata non lucida si ha la secca specialmente se non beve almeno due litri d'acqua al giorno ne fuma e questo comporta ovviamente anche una disidratazione dei dischi intervertebrali una piccola così novità come medico dello sport che si occupa come ho detto di terapia fisica di valutare fisicamente il soggetto e quindi faccio prevalentemente rifornimento a una forza nascosta scoperta da Newton nel 1703 e cioè alla forza di gravità se il soggetto è disidratato i dischi disidratati non resistono più perdono il controllo e l'effetto di ammortizzatori nei confronti delle vertebre quindi si riducono di altezza e tendono a far uscire l'ernia del disco se invece noi beviamo al centro dell'ernia l'ernia è composta da una parte fibrosa esterna e da una parte centrale prevalentemente composta di acqua l'acqua entra e esce se c'è ma entra e esce se c'è una pompa che le spinge la pompa è solo il movimento quindi un soggetto che ha un dolore e un mal di schiena e lo mettiamo a riposo per un mese ovviamente si disidrata e questo può peggiorare tutta la situazione come vedete la medicina dello sport è un po' rivoluzionaria anche per l'esigenza che abbiamo altrimenti ci cacciano via i presidenti di recuperare l'atleta molto più rapidamente in tempi più brevi rispetto ai soggetti ospedalizzati o in altri in altri ambiti quindi vediamo un attimo andiamo avanti così non vi annoio troppo e come mai che non va avanti ecco l'attività fisica migliora la salute cardiovascolare abbiamo detto prima la pressione arteriosa il diabete la dislipidemia l'obesità la sindrome metabolica ma perché bisogna fare il movimento fare attività fisica poi ve lo dirò alla fine chi fa attività fisica non ha bisogno di essere fatto perché ha degli impegni ha la mente occupata abbiamo dimostrato che chi fa sport ha una capacità attentiva maggiore un rendimento scolastico migliore ha una vita anche sociale migliore perché è una forma di aggregazione è una forma di maturazione della propria personalità un confronto diretto una sfida con le proprie capacità e quindi gli atleti a parte il doping non hanno bisogno di toparsi e l'attività fisica il movimento come diceva un poeta francese deve restare l'ultima festa della vita chi va sulla sedia a rotelle chi va col bastone è colpevole perché vuol dire che non si è applicato non ha voluto fare quell'attività fisica che è necessaria per mantenere la macchina in costante funzionante continuamente noi abbiamo un cuore centrale che pompa il sangue verso la periferia come fa il sangue a tornare dalla periferia al cuore attraverso la spremitura a plantare e che cos'è la spremitura a plantare il camminare il passeggiare il movimento senza il quale ci invecchiamo prima che moriamo prima del tempo perché poi il cuore si scompensa il cuore va incontro a uno scompenso cardiaco per cui la dilatazione che prima dell'atleta era tonogena cioè più aumenta la dilatazione cardiaca più aumenta il tono muscolare e più il soggetto sta bene quando invece non c'è più il tono muscolare i muscoli si afflosciano per mancanza di esercizio il cuore si dilata diventa una dilatazione miogena cioè semplicemente muscolare senza tono si va in scompenso cardiaco le gambe si gonfiano arriva il sangue ristagna nei polmoni fino all'edema polmonare acuto che poi porta alla fine di tutto e non lo so perché c'è qualcosa che non va aspetta vi faccio grazie non voglio annoiarvi ancora le persone allenate con ogni combinazione di fumo ipertensione per colesteremia hanno mortalità aggiustata più bassa delle persone ovviamente non allenate perché la capacità di ossigenare i tessuti è molta diversa ci può essere la prevenzione noi parliamo di sport come mezzo di prevenzione e la prevenzione può essere primaria ed è la forma classica e principale di prevenzione portata all'adozione di interventi e di comportamento in grado di evitare o ridurre l'insorgenza e lo sviluppo di una malattia o di un evento sfavorevole che può essere previsto c'è la prevenzione secondaria che sono le misure che vanno dalla diagnosi precoce dei processi patologici in fase preclinica come può essere per esempio un melanoma diagnosticato precocemente non è mortale diagnosticato tardivamente diventa mortale quindi una semplice macchia della pelle dal 2016 ve l'ho detto prima per i giocatori della Lazio utilizzo i mezzi della BTL con il sistema SDS sudden death screening in grado di prevenire con anni di anticipo la morte improvvisa secondo i criteri internazionali di Seattle quali possono essere le cause dell'ipertensione il 90% quando noi non capiamo il perché c'è la definiamo essenziale però in realtà non lo sappiamo da che dipende perché è costituzionale fattori genetici ereditali fattori ambientali lo stile di vita chi mangia troppo salato chi fa un'alimentazione sbagliata insaccati affettati sostanze piene di sale possono portare ad aumentare la pressione e fattori genetici ovviamente e più le patologie specifiche soprattutto per quelle che riguardano gli ormoni i reni e le malattie endocrine l'attività fisica praticata in modo regolare e costante è in grado di influenzare in modo significativo il rischio cardiovascolare di qualsiasi individuo c'è un effetto diretto e un effetto indiretto che naturalmente riguarda il peso corporeo tende a diminuire e tutti i valori dei lipidi e dell'assetto lipidico tendono ad essere normali l'attività abbiamo detto può ridurre la pressione arteriosa ma un piccolo digressione sulla pressione arteriosa oggi abbiamo visto alcuni testi e alcuni laboratori che definiscono la pressione arteriosa normale 120-70 io seguo un po' l'organizzazione mondiale della sanità e seguo anche la medicina dello sport io trovo che un soggetto sopra i 40 anni può avere 140-90 e posso dire che è una pressione normale alta borderline e non adotto criteri di terapia cronica che sappiamo tutti i farmaci hanno delle controindicazioni quindi adotto uno stile di vita finalizzato ad un'alimentazione corretta riducendo i grassi e riducendo ovviamente i cibi con alto contenuto di sale come pure il colesterolo chi ha standardizzato il colesterolo che è stato il professor de Duva un allievo del premio Nobel ha detto che i valori normali sono fino a 300 mg per decilitro e oggi ci dicono che 200 mg sono già alti mi fa un pochino così riflettere per carità non dico che è sbagliato non dico che è giusto però rifletto e quando ho un mio paziente che ha 200 con HDL alto trigliceridi bassi LDL normale qualcuno mi propone la terapia o le statine non sia mai io purtroppo lo devo sconsigliare perché non lo ritengo corretto devono avere dei valori ben superiori anche perché il colesterolo serve per nutrire la tiroide e serve per non far invecchiare le cellule perché la membrana cellulare è costituita da colesterolo come ai diabetici occorre lo zucchero non posso privare il diabetico perché esiste il coma glicemico ma anche il coma contrario il coma ipoglicemico quindi c'è deve essere sempre e comunque un equilibrio in tutto quello che si fa e anche lo sport stesso deve essere equilibrato perché altrimenti esiste il super allenamento e quando i soggetti vanno in super allenamento possono avere veramente delle grosse complicazioni adesso cosa bisogna fare per mantenersi in forma e non aver bisogno di ausili esterni per mantenersi anche spiritualmente interiormente in stato di benessere 110.000 passi al giorno chi va a casa circa 1.000 passi al giorno chi va a scuola al lavoro fa circa 4.500 5.000 passi i primi benefici si hanno quando si iniziano ad aggiungere passi nella prima giornata anche qui bisogna parlare di attività benefica e dobbiamo parlare di frequenza di intensità e di carico percentuale cioè qual è la frequenza cardiaca per un soggetto che ha 60 anni una frequenza cardiaca allenante come posso dire che qual è la frequenza che devo raggiungere se faccio la ciclette non possiamo lavorare o correre a nostro piacimento perché lo sport è come un farmaco l'eccesso fa male una dose minima non serve a niente la dose giusta quindi normalmente bisogna allenarsi tre volte alla settimana la durata minimo 20-30 minuti ogni seduta e l'intensità è data dalla frequenza cardiaca che deve essere il 65 tra il 65 l'80% di quella massima ideale la massima ideale è 2,20 meno l'età quindi noi facciamo 2,20 meno l'età e stabiliamo il 65% che è la dose minima e l'80% che è la dose massima in pratica per noi diciamo 120-130 abbattiti sono l'ideale andiamo da 115 a 130 e abbiamo un effetto benefico della salute se superiamo i 150 rischiamo se andiamo sotto i 115 non serve a niente o comunque serve a poco insomma abbiamo adesso non vi parlo delle varie attività sportive anche perché non voglio abusare vado veloce vediamo e mi sa che non riesco ad andare avanti mi ha bloccato perché ho fatto ho sforato ecco comunque per concludere vorrei dire che nello sport ci sono meno drogati meno fatti tant'è vero che abbiamo cognato un aforisma per una palestra in più c'è un letto di ospedale vuoto c'è una cella carceraria vuota e c'è un drogato in meno grazie c'è un modo di dire di un mio amico che quando lo incontro la strada ha detto come va alla grande è lui le endorfine si producono anche d'altro canto i cheerleaders negli sport servono sono pure pagati perché facendo il tifo rumoroso agli atleti si produce l'adrenalina che ritarda l'effetto della fatica e emotivamente carica gli atleti quindi essere ottimisti il sorriso stesso fa bene alla salute e fa malare di meno fa bene alla salute e fa bene anche a chi ti incontra perché crea ottimismo crea e per questo che in questo convegno abbiamo pensato bene di unire la scienza giuridica che è mancata un po' a dire la verità alla scienza medica e soprattutto al sorriso perché mi sembra che sono tutte persone molto positive in questo bellissimo allora io passerei la parola al nostro amatissimo professor Mirabelli che concluderà chiedo scusa perché c'ho una persona grave all'ospedale devo andarla a vedere è una persona di famiglia arrivederci grazie grazie il programma dice conclude Cesare Mirabelli ma in realtà non si tratta di tirare le fila di un discorso ampio con una molteplicità di prospettive quanto una condivisione della iniziativa che anche questa volta dobbiamo alla ideazione e alla tenacia di Alessandro Civello è una assunzione di responsabilità per lo stesso tema che è stato prescelto e che confesso mi lasciava perplesso nella dizione iniziale Sonnambulio Violenti abbiamo ascoltato come in realtà ci possa essere una rilettura della stessa intitolazione mi dava la impressione di essere in qualche modo collegata questa dizione con la recente presentazione della ricerca del census e di una espressione che come sempre molto incisiva e significativa dovevamo aderita riferito in particolare ai giovani al contesto che la cronaca ci offriva e al sonnambulismo non tanto come condizione fisica ma mi pare in quel contesto come condizione sociale o di disorientamento e abbiamo appreso invece che vi è un interesse oggettivo anche a questo tipo di dizione il tema generale era orientato essenzialmente sui giovani ma abbiamo visto che ha una portata e un'ampiezza di carattere più generale sui giovani perché perché è forse l'età della speranza qualche volta della illusione ma anche della disperazione cioè la perdita della speranza e la disilluzione la perdita della illusione in un contesto che riguarda l'individuo ma riguarda l'individuo nel contesto di vita nel quale opera nel contesto di vita familiare dei rapporti scolastici dei rapporti delle amicizie del contesto complessivo della società nella quale opera e abbiamo visto ascoltato quale sia la gravità della situazione che ne può determinare e come questo riguardi certamente l'individuo ma riguarda la collettività e apre a una responsabilità complessiva non tanto per farne discarico rispetto alla persona quanto per individuare quali possono essere gli strumenti di condivisione e gli strumenti che possono aiutare a superare il disagio l'abbiamo visto con gli occhi del giurista in fondo quando si fa riferimento a questo il giurista si trova in mezzo ma con strumenti che possono apparire spuntati se non ci si cala poi nella realtà sociale come abbiamo visto è necessario fare soprattutto quando si ha a riferimento la condizione delle persone più deboli più fragili quali siano gli strumenti di sostegno in realtà tutto questo ha un radicamento nel tessuto costituzionale e non solamente per fare un riferimento non certamente una trattazione ma aprire un'ottica rispetto a questo e anzitutto sulla concezione ampia che bisogna avere della della salute che è il primo dei diritti considerato fondamentale espressamente dalla Costituzione salute che è la condizione di benessere psichico fisico ma direi anche sociale perché ha risvolti e interrelazioni con i primi due aspetti e come obbligo della salute della repubblica di tutelare questo diritto di tutelare questo diritto che non è solamente una espressione di una dimensione medico sanitaria ma è anche l'espressione di una dimensione sociale e rispetto a questo quello che può accadere nelle condizioni di disagio sociale e di atti che possono essere considerati reato che lo sono ma anche qui l'invito che mi pare venga fortemente da queste riflessioni odierne è di non fare attenzione esclusivamente agli atti come siamo abituati anche nel mondo giuridico operare ma di fare attenzione alla persona nel suo complesso se ci limitiamo a una valutazione degli atti non solamente perdiamo l'idea complessiva della personalità ma rischiamo di avere armi spuntate uso questo termine per un'azione di recupero e un punto di riflessione è sulla finalità rieducativa della pena anche qui la Costituzione non fa riferimento alla pena come pena carceraria o come pena detentiva si dice e si è detto che la Costituzione ha una sua rigidità nelle previsioni ma anche una flessibilità nelle formule che adopera certamente quando il riferimento è alla pena che deve tendere alla rieducazione del condannato significa accertamento di una condotta che è antisociale e punita punita con sanzioni di carattere penale afflettive ma recuperatorie ma non è detto che queste sanzioni come mi pare culturalmente ci si avvia a ritenere siano esclusivamente quelle carcerarie detentive e allora il primo degli strumenti della rieducazione è l'appropriatezza dello strumento rispetto alla condizione del soggetto se come è stato sottolineato ma è percezione diffusa la detenzione la detenzione carceraria al di là delle situazioni drammatiche che la cronaca ci offre è piuttosto una direi scuola di criminalità che non un luogo di recupero attenzione a che la stessa ipotesi di detenzione spesso in condizione di promiscuità anche tra gravità di condotte tra condannati detenuti in attesa di giudizio tra tipologie di reato e luoghi di arruolamento o di prevaricazione del criminale che si impone anche in quel contesto in quell'ambiente e allora la individuazione con la fantasia che pure è stata richiamata di quali possano essere gli strumenti di recupero direi di superamento del disagio che ha prodotto quel fenomeno e in fondo un impegno in questo senso può apparire un impegno che determina un aggravio di costi perché no di investimenti ma di investimenti di tipo formativo culturale oltre che di espettivo esercizio di queste attività nuove e originali credo che sarebbe un investimento altamente produttivo che dire ancora è un fenomeno che riguarda largamente i giovani riguarda i giovani perché sui giovani l'investimento è uso un termine quasi economicistico ha maggiore produttività se non altro perché proiettato nel tempo e nel lungo periodo e qui mi chiedo ancora una volta quale debba essere la interpretazione e il programma che la Costituzione apre o ci indica e cioè la formula dell'articolo 31 quando si afferma che la Repubblica protegge la gioventù e favorisce gli istituti necessari a tale scopo proteggere non è una direi indicazione di carattere così moralistico è una indicazione di carattere propositivo la protezione significa la possibilità di agevolare la crescita la educazione cioè l'irribustimento delle personalità dei giovani ripeto non una sorta di indottrinamento di Stato rispetto a un'ideologia che lo Stato si proponga ma la creazione di condizioni per cui la gioventù possa affermarsi avere spazio crescere assumere responsabilità autoresponsabilità anche nelle condotte nei comportamenti ed è questa una formula aperta istituti necessari a tale scopo probabilmente era ancorata questa previsione anche carenze che potessero esservi nella ipotesi di gioventù che non trovi un adeguato sostegno nell'ambito familiare ma credo che sia una formula aperta non solamente a una funzione educativa che è propria delle agenzie deputate a questo come ad esempio la scuola ma anche per tutte quelle attività che concorrono a una libera socializzazione della persona attenzione a questa formula cioè la protezione non è una compressione della libertà ma è la possibilità di libera espressione della personalità dell'individuo e sotto questo aspetto si inserisce a mio modo di vedere tanto nella garanzia effettiva dei diritti inviolabili della persona tanto nell'affermazione della dignità e la persona indipendentemente dalle condizioni personali e sociali l'eguaglianza dal punto di vista sostanziale ecco come in qualche modo tutto si tiene in questa prospettiva in questa prospettiva abbiamo anche visto gli aspetti di carattere sanitario che ricostruiscono il sonnambulismo ho appreso molto anche su quello che significa il riposo il sonno e la qualità del riposo e del sonno e questo forse è un elemento che dove essere un insegnamento a tutti noi anche per quello che può apparire il sovraccarico di attività o di impegni che impedisce quelle quello sviluppo nelle diverse fasi e nella conquista di un sonno che sia effettivamente riposatore la produttività che ne deriva non è di minor momento quanto è importanza ma vediamo anche dal punto di vista medico che cosa colgo se non mi inganno una apertura a una impostazione che si va affermando anche in questo settore ed è quello della medicina personalizzata medicina personalizzata che è personalizzata non solamente nella valutazione del contesto di malattia di morbidità ma è personalizzata in rapporto alla condizione della persona e quindi anche per quello che riguarda i giovani e per quello che riguarda i giovani in condizione di disagio i giovani in condizione di disagio per situazioni critiche dal punto di vista sociale e sanitario come nella ipotesi delle 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 droghe della loro diffusione è stato fatto presente comprendo come tutto questo implica una grandissima capacità di organizzazione una capacità di ideazione e di organizzazione ma come questo sia non solamente un sogno torno al sonnambulismo un sogno ma sia direi un dovere costituzionale un dovere costituzionale delle istituzioni ma direi anche un carico della stessa società qualche battuta su quello che è lo lo sport ci si avvia a un rilievo costituzionale dello sport che non vuole essere l'agitazione di una bandierina e non è neanche lo sport la rissa fuori campo quale siamo stati abituati anche nell'ultima tornata del derby romano a vedere a verificare ma quella attività armonica nell'ambito del contesto di vita e che agevola una condizione di salute non solamente dal punto di vista fisico ma anche di superamento di alcune difficoltà e perché no anche nel contesto di chi ha un'esperienza di droga da considerare come è stato detto non solamente l'espressione di un periodo di vita dal quale una certa fascia esce con il ricordo ma una larga fascia esce con la distruzione e sotto questo aspetto credo che lo sport non sia solamente salute ma anche regola relazione rapporto solidarietà rispetto di se stessi e degli altri e quindi un fatto fortemente educativo fortemente educativo se ha una dimensione non da tifoseria ma da pratica genuina di un'attività sportiva che del resto implica anche l'astenzione da sostanze che alterino l'equilibrio della persona tutto questo che cosa ci dice mi pare ci dica non tanto di osservazioni che possono apparire nel contesto di una casa dell'avvocatura come questa e approfitto per ringraziare l'ordine degli avvocati che consente ciclicamente queste che non sono di variazione dello spirito ma approfondimenti di temi rilevanti mi pare che segnali come la vita e la vita del diritto e la conoscenza del diritto implichi la interrelazione con il contesto nel quale ci muoviamo e come dalla esperienza anche giurisprudenziale e giudiziaria derivino non solamente conoscenze e esigenze ma anche derivi la necessità di ancorare la visione giuridica a quello che è il contesto nel quale ci si muove e a individuare negli strumenti di protezione della persona anche quelli che possono essere i risvolti che si sviluppano nelle aule di giustizia grazie per chi è intervenuto grazie per chi ha ascoltato e grazie all'amica Alessandra Civello per queste iniziative extravagantes non fuori quadro ma che si collocano in un apparente margine ma che centrano i problemi che abbiamo davanti grazie davvero grazie a voi tutti di essere intervenuti grazie e ritengo che queste questi incontri siano una forma per rimanere giovani anche alla nostra età e per quanto riguarda i detenuti io credo che una formula magica potrebbe essere quella di farli lavorare si dice che non c'è manovalanza gli stranieri devono venire perché gli italiani non vogliono fare tanti lavori benissimo li prendiamo li portiamo nei campi a raccogliere pomodori a raccogliere a lavorare sarebbe una formula per reintegrarli nel mondo del lavoro recuperarli e risparmiare perché giustamente potrebbero essere una fonte utile per la società grazie a tutti e alla prossima grazie a tutti